che oggi ospita questo credo sicuramente stupendo e interessantissimo laboratorio dal basso. Un tema che ci trova vicinissimi come problematica e come interesse e che abbiamo voluto ospitare qui, i cui organizzatori e la cui storia di oggi abbiamo voluto ospitare qui sperando anche in una collaborazione futura tra tutti noi, credo che siamo tutti volontari e lavoratori della cultura e del sociale qui nel Salento, quindi è bene anche collaborare, conoscersi e studiare insieme i problemi che ci trovano e ci mettono al lavoro quotidianamente. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie mille. Il microfono credo che lo possiamo spegnere. No, no, vabbè ci pensiamo. Ecco, magari lo spegniamo che non faccia ritorni. Bene, signori, benvenuti. Mi presento, sono lo chef Massimo Coincagli, ob torto collo, ruolo che peraltro accetto molto molto volentieri essendo sia goloso sia buon gustaglio. Il tema, come avete visto, è quello del fundraising per la cultura e qui si pongono già due interrogativi, parliamoci chiaramente. Fundraising o foodraising, come qualcuno diceva su Facebook, dato il posto la domanda è più che lecita. Sicuramente il fundraising in ultima istanza è la garanzia che si possa anche mangiare, quindi è anche foodraising. Io non so se da voi si usa dire, ecco, ma la frutta qui prendiamola nel senso buono perché a Roma si dice siamo arrivati alla frutta. Si dice anche da voi? Ottimo. Ecco, allora cerchiamo di prenderne il lato buono, eh? Quell'ultima nota dolce alla fine del pasto. In verità il fundraising va bene che sia la frutta perché è arrivato come ulteriore appuntamento di altri, ma in verità il fundraising, come vedremo, rispetto a un'organizzazione, rispetto ai suoi progetti, dovrebbe essere assolutamente l'antipasto, anzi direi l'aperitivo, cioè una delle cose che per prima deve essere tematizzata, sicuramente non è l'ultima. Però questo gioco sulle parole mi permette già di dire una cosa importante. noi in Italia se un problema abbiamo, per tante ragioni che vedremo, è che del fundraising invece ce ne occupiamo, direi, con l'ammazza caffè. Cioè quando è troppo tardi. Che vuol dire che non ce ne dobbiamo occupare? Certo, però già questo qui è un primo forte limite. Perché come mi ha insegnato un presidente di un'organizzazione al quale ho avuto modo di fare consulenza e che ha vissuto per lungo tempo negli Stati Uniti d'America, negli Stati Uniti d'America quando si parla di fundraising diciamo che c'è un motto, un adagio che tutti quanti conoscono. E questo adagio dice così, no mission, non hai una missione, non hai un progetto chiaro, eh no money, non ci sono soldi per te. Quindi se non c'è un progetto, una missione, un'organizzazione che la persegue, non c'è come dire la sostanza per fare raccolta fondi. ma con diciamo quella tipica cultura pratica e anche un po' materialista anglosassone dicono anche but also no money, non c'hai soldi, no mission. Quindi soldi e missione, progetti, nel nostro caso cultura, sono due facce della stessa medaglia. Se ci occupiamo solamente della missione e non ci occupiamo di come poterla sostenere, alla fine è come se non avessimo nulla, viceversa se ci occupiamo solamente dei soldi e quindi andiamo a cercare missioni e progetti solo per trovare i soldi, per carità è più che legittimo, ma evidentemente non stiamo portando a casa quello che noi vorremmo portare a casa. E ognuno ha le sue finalità e la sua missione. Ecco noi in Italia invece veniamo da una cultura totalmente diversa, vuoi per ragioni culturali, vuoi per ragioni politiche. Noi abbiamo vissuto e devo dire molto onestamente per lungo tempo abbiamo vissuto molto bene, ci abbiamo sguazzato nel finanziamento pubblico. Un contributo è un finanziamento per qualunque cosa. Noi oggi piangiamo perché la cultura non viene finanziata, ma attenzione l'Italia è un paese che ha strafinanziato la cultura, che l'abbia fatto bene o male è la vera questione. Quindi il pauperismo, come dire siamo sempre stati così disattenti alla cultura, è una cosa falsa. L'abbiamo usati male, sono stati usati male questi soldi e ci hanno ingenerato in qualche modo una consuetudine. Cioè che se uno ha una missione esiste un ente pubblico, e se questa missione interessa il sociale è l'ente pubblico che lo deve fare. E questo ci ha bloccato i centri nervosi, diciamocelo chiaramente. Non ci siamo mai messi con lo spirito imprenditivo che noi usiamo quando vogliamo affermare un nostro progetto a cercare soldi. Anzi, ci siamo arrabbiati quando il pubblico non ce li dava, anche per buoni motivi. Certo, io come voi sognerei tranquillamente un sistema sociale in cui se ho una buona idea busso a una porta e mi danno i soldi. Non faccio lo stupido. Se fosse così mi andrebbe bene e lo firmo subito. Però vedremo che questo tipo di atteggiamento, oltre oggi ad essere totalmente insostenibile, per delle buone e per delle cattive ragioni, ma è insostenibile, è inutile che ci discutiamo sopra, non ci aiuta, cioè questa idea di essere sempre assistiti da un fondo pubblico, non ci aiuta a essere ragionevolmente imprenditivi con la comunità al quale noi rivolgiamo i nostri progetti. Con la quale invece vediamo che non tutto il mondo della cultura, ma buona parte della cultura, tende ad avere un rapporto, più che di un rapporto con una comunità che può condividere un progetto e a diverso titolo, parteciparci solo come un fruitore. E questo, come vedremo, porta delle fregature al fundraising. Bene, questa è un'introduzione come per dire, non è tutto rose e fiori quello di cui parleremo oggi. Partiamo anzi da una situazione abbastanza negativa e pessimistica. Io ho la cattiva abitudine di dire la verità e quindi purtroppo vi darò tante cattive notizie. Ma alla fine di questa strada credo che troveremo sicuramente delle prospettive positive. Noi faremo in questi due giorni, che ve lo dico subito sono molto intensi, e quindi se mi è permesso vi chiederei nei limiti del possibile di riuscire a rispettare gli orari, perché sennò quello che abbiamo pattuito è difficile portarlo a casa. Noi faremo sostanzialmente tre cose. Stamattina noi cercheremo di inquadrare bene il problema del fundraising nel contesto della cultura, perché alcune peculiarità. Una cosa è raccogliere fondi nel settore della cooperazione allo sviluppo, dell'aiuto ai soggetti svantaggiati, un'altra cosa è raccogliere i fondi per dei progetti e delle missioni culturali. E quindi innanzitutto definiremo che cos'è il fundraising, come funziona in un'organizzazione il fundraising e a quali mercati, cioè a quali soggetti che possono essere disponibili a dare i soldi, noi ci rivolgiamo e quali caratteristiche hanno questi mercati. La seconda cosa che noi faremo, senza cadere nel tranello di sfuggire subito alle tecniche, come si fa a portare via i soldi a massimo con i cagli qua fuori? No, no, quello viene dopo. Come in ogni buona organizzazione, in ogni buona impresa, bisogna avere prima una strategia. Come un'azienda non si può permettere di vendere prodotti se non ha un business plan, noi non ci possiamo permettere di chiedere soldi fuori se non abbiamo una strategia che risponda alla domanda ma se io voglio fare questo, con quali risorse e quante dai diversi interlocutori lo posso fare? Ecco perché noi arriviamo tardi se mettiamo il fundraising alla frutta perché capite bene che questo è proprio l'aperitivo. Prima ancora di mettermi a tavola a mangiare, io devo avere un'idea che voglio mangiare? Col dietologo che rompe le scatole, il mio stomaco che invece reclama, con tutte le caratteristiche che influiranno su questa strategia e quindi ci concentreremo su come si costruisce una strategia. Qui costruiamo un laboratorio. Alcuni di voi mi hanno mandato dei progetti sui quali realmente devono trovare soldi. Ne abbiamo due o tre. Ne possiamo aggiungere altri, tanto da fare quattro gruppi, direi, perché siete piuttosto numerosi, quattro al limite e anche cinque gruppi, che cercheranno durante questo laboratorio di stabilire le linee strategiche della raccolta fondi per poi concentrarci su uno dei mercati, perché in due giornate non è che si può pretendere tutto, che è quello delle aziende, spesso accanto c'è anche quello delle fondazioni, quindi prestando un occhio anche alle fondazioni e durante questo laboratorio noi con una procedura professionale strategica elaboreremo un'idea da proporre a una vera azienda. Cioè cercheremo di metterci alla prova. Questo per due motivi. Primo perché nei limiti del possibile vi portate un lavoro fatto a casa, il che non guasta. dice sono andato a un corso però ho comprato pure un prodotto. Se ci riusciamo, bene. Certo, questo è un corso di formazione, il suo obiettivo è principalmente didattico, sennò servirebbe una consulenza, ma hai visto mai. La seconda ragione è che noi qui siamo tutte persone adulte. È inutile che io faccio l'accademico pensando di avere dei giovanotti che devono ancora formare il loro cervello. Siete tutti con dei problemi, gli adulti apprendono per problemi. Quindi se noi vogliamo portarci a casa un risultato concreto, dobbiamo partire dai problemi, quelli che ci fanno male sulla pelle, perché allora questo è il motore che ci fa apprendere. Ho tradotto in poche parole quella che è la teoria dell'adult education. Se c'è qualche esperto, abbia pazienza. Forse andava spiegato in un altro modo, ma così è abbastanza efficace. Chiedo solo una preghiera, se è possibile, un poco d'acqua, perché sono un cammello quando faccio lezioni. Possibilmente naturale, per evitare con l'acqua frizzante, è vero, di essere poco socievole. Allora, partiamo dalla definizione di fundraising, che è una definizione pesante. Visto che stiamo in un luogo in cui il nostro legame col cibo è inscindibile, questa è una definizione che per digerirla alla fine serve un buon grappino, perché è una mazzata. Tenete conto che la definizione più conosciuta nel mondo di fundraising l'ha data un grande, un grande che si chiama Henry Rosso, si chiamava, è morto, detto Hank Rosso, con un pizzico di orgoglio dico che è di origine italiana, anche se ha fondato la prima e la più grande scuola di fundraising che sta presso la Indiana University. Hank Rosso diceva con cultura tipicamente statunitense che il fundraising è la nobile arte di insegnare a donare. Bellissimo. Ha uno spessore etico meraviglioso, devo dire che è anche molto vera come definizione, perché se fuori da qua non c'è gente, aziende, persone, individui propensi, orientati a dare soldi, noi possiamo fare quello che ci pare, ma i soldi non arriveranno. No? È come cercare di vendere la neve agli eschimesi. A parte la solita storia che i napoletani sarebbero capaci di farlo, effettivamente lì non c'è propensione a comprare neve, noi possiamo fare tutto quello che ci pare. Per quanto? Insomma, lavorandoci. Ma insomma, non è proprio la cosa più facile. Allora, questa definizione che è molto vera e molto bella, però sicuramente ci dice lo spessore etico, il valore sociale di questa nostra professione. Io preferisco invece una definizione un po' italica, più razionale, in cui mettere in fila gli elementi costitutivi del fundraising guardandolo dal punto di vista di un'organizzazione. Allora, leggiamola tutta insieme e poi, come dire, assaggiamola pezzo per pezzo. Il fundraising è un'attività strategica di reperimento delle risorse finanziarie volta a garantire nel tempo la sostenibilità di una causa sociale e della organizzazione che la persegue e a promuovere il suo sviluppo costante affermando la propria identità sociale, la propria verità, verso una molteplicità di interlocutori. Ci vuole un grappino, appunto. Vediamo che cosa abbiamo mangiato. Innanzitutto abbiamo mangiato un'attività strategica. Cioè, che fai? Faccio fundraising. Ah, bello! Organizzi i banchetti, mandi le lettere a casa, vai dalle aziende, fai il fichetto con le aziende per portare via i soldi. Cioè, sì, sì, assolutamente faccio anche quello. Ma la verità, l'80% del tempo sto dietro un tavolino a studiare qual è il modo migliore per farlo. A che serve? A portare a casa soldi. Questo ricordiamocelo perché il mondo fuori, siccome i soldi diciamo, hanno un certo peso, se è possibile vorrebbero darti volontariato, agendine che avanzano nel loro magazzino, se sei un produttore di agendine come Moleskin, se sei assolutamente, che ne so, un'azienda alimentare e dice, guarda, ho le merendine, mi è successo un milione di volte, ho una tonnellata di merendine, se le vieni a prendere te le do. Intro certi limiti, beni, servizi, per noi hanno un valore economico e quindi se hanno un valore economico tale che io dovrei cacciare dei soldi per averli e me li danno, va bene, però non ci prendiamo in giro, le nostre organizzazioni quando noi fundraiser torniamo a casa ci domandano, hai portato i soldi preferibilmente in contanti e di piccolo taglio, immediatamente spendibili, questo è il vero nostro problema e quindi l'attenzione deve essere su questo, io devo essere veramente contento quando ho portato a casa soldi, è la nostra sfida. A che serve questa attività? Serve, attenzione, a garantire la sostenibilità del tempo di una causa sociale. Al centro del fundraising c'è un progetto, un'idea, noi la chiamiamo causa sociale, evitiamo subito equivoci, non è che uno deve per forza, perdonatemi, io parlo molto francamente, se vi dà fastidio ditemelo che ritorno a una formalità accademica, non è che per forza al centro dei nostri progetti ci deve essere uno sfigato, qualcuno che sta male, eh? E no, perché è facile dirlo, perché? Perché noi siamo cugini della beneficenza, della carità e come vedremo addirittura questo lo si è portato alla cultura che è una cosa fuori dalla grazia di Dio. Quando io dico una causa sociale vuol dire una causa, un progetto, una finalità, una missione che il mondo fuori condivide. Ci metto pure ad andare in bicicletta, ci metto a mangiare bene, l'importante è che sia un bene riconosciuto socialmente, non solo individualmente, se no siamo in un altro mondo di scambi personali, vado al ristorante, mangio bene, pago, punto. Ha un valore sociale fino a un certo punto, eh? E al centro del fundraising, quindi, e la gente fuori, vuole dare soldi per una causa sociale della vostra organizzazione e non gliene frega di meno. Al limite la vostra organizzazione può e deve fregare solamente ai soci, perché firmano un patto per statuto, io appartengo e pago la quota. questa è l'unica vera forma di raccolta fondi che è legata a sostenere un'organizzazione, punto. La gente fuori, le aziende fuori, le fondazioni fuori, le fondazioni fuori, dare soldi alle organizzazioni, oggi è una cosa che proprio non esiste. Mi porti un progetto di nuova biblioteca, mi interessa quella, la causa sociale, è chiaro questo concetto? e di questa causa sociale a me interessa come fundraising di trovare la modalità per sostenerla nel tempo. Questo è un altro concetto fondamentale. Anche qui parliamoci chiaramente, perché oggi abbiamo sempre aule e auditori sempre più estesi di persone che vogliono sentire fundraising? Perché? Perché abbiamo guardato la nostra cassa che piange, anzi, proprio sta strillando in questo momento, è vuota. E quindi diciamo, ecco, il fundraising è il modo per rispondere a uno stress economico finanziario. Non ci sono più soldi, devo fare fundraising. È umano, ma è sbagliato. È umano, ma è sbagliato. Io stesso, 25-30 anni fa, ormai, quando ho iniziato a fare questa attività, ah, non l'ho detto in premessa, io mi occupo di fundraising perché sono sempre stato dirigente di organizzazioni non profit e quindi l'ho fatto guardando la cassa delle mie organizzazioni. Poi mi sono innamorato della materia di per sé, ma questa è una cosa che è venuta dopo e anch'io ho iniziato così. Non è che ero così lungimirante. Ho guardato la cassa, non c'erano più soldi pubblici, insomma, dovevamo fare cose di più. La cassa piangeva, ho detto, vabbè, bisogna fare fundraising. E poi ho capito che era il modo sbagliato per farlo. Ciò nonostante lo dovevo fare. Perché noi dobbiamo avere in testa non come riparare un buco in cassa, ma come se noi abbiamo un progetto questo progetto possa essere attuato e anzi svilupparsi nel tempo. Vi è chiaro questo passaggio? Guardate, quando uno ha un buco in cassa il vero strumento non è il fundraising, così come quando uno ha un buco in cassa in un'azienda il vero strumento diretto non è la vendita del prodotto, è l'accesso al credito che in genere viene fatto perché tu hai un progetto, questo in genere lo chiamiamo business plan, che ti fa vedere che tu raggiungerai ragionevolmente determinati obiettivi, ma per raggiungerli hai bisogno di moneta, hai bisogno di investire, di sostenere dei costi. È chiaro, se un'azienda sta mandando delle persone in cassa integrazione è chiaro che deve migliorare il suo sistema di vendita come stare nel mercato, ci metterà tre, cinque anni, ma la cassa integrazione la deve andare a chiedere allo Stato, non è che porta più scatole dei pelati al supermercato a risolto il problema. Vi è chiaro questo passaggio? Quindi sono due strumenti diversi. Apro e chiudo parentesi, in Italia c'è un grave problema, che chi ha bisogno di accesso al credito, soprattutto nel settore non profit, soprattutto nel settore della cultura, non ha degli interlocutori validi. Tenete conto che negli Stati Uniti d'America se io sono, dico per dire, lega ambiente e faccio coletta verde, no? E dico, guarda, io ho mille volontari, tutte le volte che faccio coletta verde è questa, è un marchio mai conosciuto, però devo investire per farla crescere, la banca din 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 finanzia. Eh no, è un'altra cultura, non è tanto una questione della banca che lo vuole fare o non lo vuole fare, è una questione di cultura, se tu hai un buon progetto si investe sopra e si raggiunge. Eh lo so, lo so, e infatti è quello che ho detto io. Quindi, questo un po' ci frega, non è colpa nostra, però rimane a noi la responsabilità di capire che noi col fundraising non possiamo che essere lungimiranti, avere un progetto e studiare un sistema per farlo sviluppare nel tempo. A questo serve il fundraising, non è un'azione lineare, mancano soldi, li chiedo, li ricevo, finito il fundraising. No, così non andiamo da nessuna parte. È chiaro che dietro la causa sociale c'è un'organizzazione, perché è una causa sociale, se dietro non ha strutture, risorse umane, intelligenza e quant'altro, non esiste, è puro pensiero e non gliene frega niente a nessuno del puro pensiero. Quindi è un'organizzazione importante, anche perché se l'organizzazione il lavoro lo fa bene crea fiducia, credito e io i soldi li do a chi è meritevole di credito. Questo è evidente. Ma quello che a me interessa come Massimo qua in Cagli è entrare qui dentro e dire qui al centro c'è una missione, quella di far vedere, spiegare, far fruire una cultura del gusto che è una cosa straordinaria. Se mi innamoro di quello darò i soldi, se no vedo la struttura è bella, eccetera, eccetera, ma passo e vado avanti. Anzi al limite pago il biglietto, vedo, laddove ci fosse il biglietto non lo so e lì finisce, non è che esposo la causa. E a promuovere quindi il suo sviluppo costante. La gente, il mondo, le aziende, le fondazioni hanno interesse a dare dei soldi per fare qualcosa in più, non per mantenere l'esistente. Questo spiega perché tutte le campagne per quanto umanamente giustificabili che dicono io assisto 15 anziani ma il comune non mi dà più i soldi, non so più come assistere gli anziani, o mi date i soldi voi o sono costretto a chiudere. E chiudi! Ma che te l'ha ordinato il medico? Ecco, questo, adesso sto facendo proprio il guitto di teatro per far passare dei messaggi forti alla gente fuori, soprattutto in Italia, per mantenere l'esistente è abituata a pagare le tasse e non è molto contenta, non solo perché ti portano gli ai soldi ma soprattutto perché con quelle tasse non si produce valore aggiunto. Ok? Non sono sufficienti neanche per mantenere l'esistente le tasse. Quindi è chiaro che se io devo andare a chiedere soldi ai cittadini, alle aziende che le pagano le tasse o alle fondazioni questi vogliono dare dei soldi volontariamente non perché glielo dice la legge ma a patto che questi soldi producono un qualcosa in più che sia un bene comune accettato da una comunità più o meno larga se no già me li chiede lo Stato guardate questo per la cultura è fondamentale quando io sento campagne e dopo ne vedremo una che stava fatta a Torino che fuori dalla grazia di Dio in cui si dice adesso tocca ai cittadini ai privati sostenere il museo se no chiuderemo sei stato incapace questa è la vera risposta mi dispiace sei stato incapace per vent'anni hai avuto contributi pubblici e invece di avere un bilancio a posto ogni anno hai fatto un buco di un milione in più allora leviamo il non profit leviamo la cultura se tu fossi un'azienda nel privato è giusto dovevi sparire dal mercato non sei capace non sei utile diciamocelo chiaramente se noi vogliamo essere presi sul serio dobbiamo essere pronti ad accettare che il mondo fuori abbia questa ottica su di noi perché se no vuol dire che non saremmo importanti siamo un giocarello e ai bambini ogni tanto se fa giocare damogli due euro vi è chiaro o bloccatemi se il ragionamento non vi va io sto andando giù duro però così almeno arriviamo al succo del problema affermando la propria identità sociale il trucco del fundraising è quello di andare a chiedere soldi per le ragioni per le quali io insieme ad altre persone mi sono messo insieme ho fatto un'associazione una cooperativa e quant'altro se mi devo andare a inventare qualcosa di diverso da quello che io volevo fare per carità va bene ma sto perdendo la mia identità sociale cioè il mondo fuori mi domanderà ma tu che volevi fare volevi fare business e quindi fai la qualunque per prendere soldi cosa che è legittima fare ma allora non interessa il fundraising oppure volevi affermare a tutti i costi quella cultura quel genere di spettacolo quello che vi pare è perché guardate io vi racconto l'esperienza che è stata dei fondi europei in Italia il famoso fondo sociale europeo quando è arrivato in Italia è arrivato sotto forma ma anche negli altri paesi europei sotto forma di formazione ti occupavi di pari opportunità nell'accesso nel mondo del lavoro tra uomini e donne è ok ottimo l'Unione Europea ti sostiene che devo fare devi fare un corso di formazione ti occupi di integrazione sociale degli immigrati sì devi fare un corso di formazione tutte le organizzazioni non profit la mattina si svegliano e dicono sono un ente di formazione io fino a ieri facevo lo sportello di informazione per immigrati ma per far soldi tocca fare formazione abbiamo scoperto un popolo di grandi formatori in Italia che non sapevano neanche che cos'è una lezione che cos'è una didattica non sapevano neanche la materia che avrebbero dovuto insegnare e vi devo raccontare io ho avuto la fortuna per un paio di anni di gestire un progetto del Fondo Sociale Europeo in Sardegna di integrazione degli immigrati qualificati e allora prima di iniziare il progetto sono andato a studiare gli altri progetti che erano stati approvati e finanziati in Sardegna e ho visto cose che voi umani non potete proprio pensare in particolare c'era una bellissima organizzazione che faceva un ottimo sportello di informazioni degli immigrati e di accompagnamento all'accesso a servizi a loro dedicati voi sapete che in Italia c'è una legislazione sul diritto alla sanità per cui anche una persona che non è registrata regolarmente nel nostro paese anzi una donna se ha bisogno di servizi sanitari ce l'ha l'accesso cioè alcune cosette buone ce le abbiamo nel nostro paese ok e questo era il tipico sportello che aiutava gli immigrati a capire che c'era quello e forzava quei vincoli che poi nell'ospedale facevano in modo tale che poi quella donna non accedesse ai servizi però bisogna campare Massimo devo fare un corso di formazione su che cosa lo faccio per gli immigrati attenzione 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 corso di formazione sul giardinaggio aspetta perché voi già fate o ma la ragione per la quale dovete fare o ancora ve la devo raccontare ma perché giardinaggio fammi leggere il progetto eh leggo il progetto giustificazione del progetto tendetevi forte eh perché noi abbiamo una componente immigrata soprattutto africana subsahariana che vive a forte contatto con la natura cioè ve lo immaginate i balubba eh allora primo siete mai stati a Dakar voi no loro per scrivere una cosa del genere ci sarebbero dovuti stare a Dakar visto che parlavano dell'Africa subsahariana chilometri di bidonville dove l'unica natura che vedi è una fognatura a cielo aperto che è natura cioè c'è un microclima lì che è una cosa meravigliosa da studiare ma di giardinaggio neanche l'ombra gli immigrati vengono principalmente dalle grandi città africane non vengono e poi non tutte le tribù coltivano santa pace alcuni sono cacciatori e non sanno niente del coltivare capite dove stiamo e allora è chiaro che il mondo fuori dice ma tu che cosa volevi fare la qualunque per prendere soldi oppure quello che veramente volevi fare probabilmente sai fare ma questa è molto moralistica come spiegazione c'è una spiegazione più terra terra per cui bisogna rispettare questo principio perché se io sono nato per fare una determinata cosa e per trovare soldi mi devo inventare qualche cosa in più magari faccio anche una cartata di soldi ma mi aumentano i costi per fare i soldi quindi se io parto con un'idea e mi serve 100 ma devo fare anche B per fare soldi allora spendo 180 se faccio 200 io ho fatto 20 allora rispetto al mio fabbisogno 100 sto andando rapido vi chiedo scusa ma il principio l'avete capito rispetto al mio fabbisogno 100 alla fine gli porto 20 ho un buco di 80 vi faccio il caso pratico che viene dal mondo della cultura preciso teatro piccolo ma di qualità al centro di una grande città italiana non posso dire proprio tutti i nomi insomma c'è un minimo la privacy e allora mi confronto col presidente e direttore artistico presidente della cooperativa che lo gestisce e direttore artistico del teatro proprio perché lui diceva ma io qui devo fare fundraising analizziamo la situazione che fai per fare soldi te biglietteria tutte queste cose qua e poi abbiamo un bar quasi tutti i teatri hanno un bar questo in particolare questo teatro sta in un palazzo storico con un giardino interno cioè è un posto fichissimo per fare il bar va beh la città ve la dico è Milano a due passi dal Duomo poi se volete proprio capire qual era il teatro ci arrivate ok e quindi diciamo che era una buona idea quella di avere il bar allora dico analizziamo il bar dico quanto ci fai col bar ma col bar ci faccio qualcosa tipo 120 mila euro l'anno beh buono ottimo adesso vediamo che ti costa fare il bar allora rincomincia a fare i calcoli e più andavano avanti i calcoli più sbiancava allora c'ho vabbè i dipendenti poi c'ho oddio santo sì tutte le tasse sanitarie le cose poi c'è la licenza poi questo poi questo poi quell'altro e insomma alla fine praticamente uscivano fuori una quarantina di mila euro neanche tanto male io però gli dico anche tu sei il direttore artistico del teatro quanto tempo impieghi sulla gestione del bar a questo punto lui ha avuto un mezzo infarto perché aveva capito dove si andava a parare e ha incominciato a rileggere la sua agenda quotidiana e dice ma guarda credo 30% del mio tempo perché poi ci sta il sindacato guarda è una cosa terrificante continue trattative poi c'è la ASL le cose i controlli l'igiene 30% del mio tempo quanto vale un direttore artistico di un teatro di qualità al centro di Milano eccetera adesso non mi dire quanto te metti in tasca te perché già lo so che te ne metti poco ma quanto vale sul mercato e allora sti 40.000 a spanne facciamoli diventare 30.000 ma perché so buono la domanda è tu fai teatro di qualità hai fatto questo per fare un teatro di qualità non c'è un modo migliore per fare 30.000 euro facendo il teatro di qualità perché questo ti darà enorme soddisfazione dice ma che devo chiudere il bar pazzo non lo chiudere dallo in gestione al soggetto esterno che sa fare il bar gode a fare il bar e sa fare business perché il bar deve saper fare business far uscire fuori con una dose di caffè un caffè e mezzo tutti i trucchi che può sapere un barista eh si spera trucchi a fin di bene e fai un contratto capestro in cui tu gli dici se fai 100 di profitto sta scritto qua 50 a me e 50 a te ciao non ti piace e ne trovo un altro così tu ti occupi del teatro lo sviluppi e ti concentri a trovare soldi là alla fine hai fatto bingo capito? quello che intendo dire al di là della morale lui però ha aggiunto una cosa che ritorna al principio invece un pochino più morale dice sai Massimo facendo sto ragionamento mi rendo conto di un altro aspetto e qui l'infarto ormai gli era già arrivato perché se io a Milano dico teatro di qualità mi dicono l'Arcimboldi non dicono me di me che cosa dicono che sono un bel posto quindi lui stava indebolendo senza volerlo fare evidentemente il suo posizionamento strategico e quindi quando vado a una fondazione che ha dei soldi per il teatro di qualità l'Arcimboldi è 10 posti davanti a me è evidente al di là della qualità di quello che tu produci dice ah sì quel bel posto vabbè ma c'hanno il bar ah figo andiamo al palazzo bel posto ma qualcuno manco si accorge che c'è il teatro non so se ho spiegato il concetto quindi è una sfida per l'amor di Dio e poi tutto questo va fatto con buon senso perché se io mi posso mettere a vendere una cosa che funziona bene e la gente sa la compra io non faccio il moralista la vendo l'importante però è che abbia chiara la strategia ok? bene verso una molteplicità di interlocutori e qui bisogna superare l'ultimo luogo comune che in genere ci accompagna partiamo sempre dal mondo della cultura il pubblico non ci dà più soldi dobbiamo trovare sponsor è vero? sponsor cioè in pagina si vada a fare dei sponsor ma facciamo un gioco secondo voi in una istituzione culturale di qualunque genere va bene? che faccia diciamo che fa spettacolo perché in genere spettacolo sponsor quanto incide mediamente le entrate da sponsorizzazione in percentuale provateci ma pigliamone una che va bene non dico una sfigata una che va bene secondo voi quanto può incidere mediamente le entrate da sponsor? e rispondete non c'è il voto non ci sono neanche punizioni dai 20% buono qualcuno? 10 ecco diciamo a metà tra 20 e 10 15% ma insomma quando va bene siete preparati però perché in genere mi dicono il 30 il 40 che è una cosa fuori dalla grazia di Dio e l'araba finisce non sei mai vista posso assicurare che 10-15 veramente vuol dire che hai un ottimo sistema vuol dire che con le aziende già ci lavori da parecchio vuol dire che hai anche del buon materiale da offrirgli e non sempre questo lo si ha immediatamente perché ho fatto questo esempio? per dire attenzione la sostenibilità nel tempo di una causa sociale di un'organizzazione non può essere legata solo a un mercato anzi noi veniamo proprio da questo errore cultura faccio questo i soldi me li dà il pubblico io mi morderei le mani perché se penso a quando veramente ci ricoprivano dei soldi pubblici per la cultura nessuno gli è venuto in mente di investire nel fundraising manca a me diciamolo sinceramente una follia avevamo tutte le condizioni per investire e incominciare ad avere donatori individuali andare a cercare sponsor la risposta era faccio affare mi dà il comune di Milano i soldi mi far perdere tempo queste erano le prime risposte 15 anni fa mi far perdere tempo col fundraising sta storia delle letterine schifo che schifo a volte appoggiata da una forte ideologia statalista no perché è giusto che la cultura la paghi lo Stato non la devono pagare i cittadini ma io veramente volevo contribuire no zitto peccato abbiamo perso una grande occasione vagonate di fondi europei vagonate di contributi regionali se l'avessimo capito prima adesso avremmo almeno le cartucce da sparare non è che staremmo nell'oro avremmo le cartucce da sparare quindi però dobbiamo portarci a casa un insegnamento se io mi muovo dicendo come dicono anche gli amministratori che io li strozzerei quando dicono questo di destra e di sinistra a scanso di equivoci adesso tocca alle aziende sostenere la cultura no perché con le tasse non ce la facciamo più primo è un motivo molto debole cioè perché pensi che le aziende navigano nell'oro e poi qual è la ragione per la quale dovrebbero farlo secondo non regge perché io nella mia organizzazione devo pensare che i soldi li devo prendere da pubblico aziende fondazioni e individui più li prendo da tutti con modalità diverse più sto tranquillo perché se vengono meno i fondi pubblici ho già aperti altri mercati cioè va bene ma il 2% di donatori individuali meglio passare da 0 a 2% una fatica enorme passare da 2 a 10 è molto più facile che ne so ho mille donatori faccio una campagna amico chiama amico non voglio dire che diventano 2000 ma 1500 sì se ho 0 donatori prima li devo trovare poi li devo convincere dalla mia causa poi gli devo chiedere i soldi poi gli devo far venire l'abitudine di darmeli sono passati 5 anni e intanto sto lì attaccato diciamo alla come si dice in ospedale quando ti fanno vivere eh bravo esatto ecco perché noi dobbiamo sempre guardare una molteplicità di interlocutori non solo per una questione di equilibrio economico finanziario ma anche per un'altra ragione perché il fundraising oltre ai soldi porta consenso e qui faccio una pausa che dovete digerire porta consenso un soggetto che dà liberamente dei soldi a te è un'espressione di consenso se no i soldi non te li darebbe secondo una certa sociologia chiaramente statunitense eh la donazione volontaria è un atto sociologicamente più pesante di dare il voto alle elezioni poi a noi non ci è toccata la democrazia è giusto che sia così però da un punto di vista sociologico attenzione che la motivazione e la carica di decisione che c'è dietro è più pesante a volte di quella che io metto quando scelgo chi andare a votare è un'adesione di peso non so se mi spiego per spiegare meglio questo concetto facciamo sta sceneggiatura vado da una fondazione e gli dico guarda io voglio fare il museo del gusto eccetera eccetera è un bel idea un bel progetto me lo finanzi scena uno cambiamo sceneggiatura vado da una fondazione e gli dico guarda noi stiamo facendo il museo del gusto che ha più di 1500 soci che lo sostengono ogni anno che fai sali sul carro pure tu capito passato il messaggio questo vale soprattutto con i donatori individuali perché è chiaro che gli interlocutori danno i soldi perché quello è un bene può essere un bene di una comunità se la comunità ha già mandato un segno è la prova provata che è così perché se no mi rimane l'interrogativo io finanzio un progetto ma la comunità lo vuole lo stai chiedendo te non la comunità e lo stesso vale per esempio tra le aziende se io vado da un'azienda e vado con un'iniziativa che ha già quattro sponsor sotto siccome non è che i nostri imprenditori italiani amano il rischio a investire sul futuro la prima cosa che domandano è se quattro aziende già l'hanno fatto non deve essere una cosa assurda perché io il primo sicuramente non lo faccio no? non siamo amanti del rischio dell'innovazione e viceversa quindi ecco perché è importante ulteriormente avere una molteplicità di interlocutori emergency si siede a un tavolo di trattativa degli interventi in Afghanistan e quando si siede è buongiorno io sono emergency 850.000 donatori abbiamo appena finito di costruire un ospedale nel sud del Sudan che è costato solo 12 milioni di euro è una cardiochirurgia di eccellenza e l'abbiamo interamente costruita in due anni con i soldi dei cittadini e delle aziende ne vogliamo parlare? questa è la sceneggiatura vera quando uno ha un forte fundraising ok? perché fundraising non vuol dire solo raccogliere fondi per le nostre attività fundraising vuol dire anche sentitemi bene e poi dopo entriamo nella materia specifica ma questo è un significato che voi dovete assolutamente recepire essere in grado di trovare e portare risorse e destinarle su un obiettivo è potere sull'economia ok a un livello micro non voglio spararla grossa a un livello micro ma è potere sulla economia l'altro potere è coercitivo è quello delle tasse oppure è quello del business con tutti i paradossi che produce tutto legittimo ma produce dei paradossi infatti gli economisti parlano dei paradossi del libero mercato il libero mercato purtroppo non risolve un fico secco lo dicono gli stessi economisti produce dei paradossi failure le chiamano gli errori i paradossi i prodotti quindi attenzione sull'economia c'è una partita in gioco il fundraising è un modo per avere esprimere concretamente un potere sull'economia qui chiudo la porta diciamo del discorso politico perché ci porterebbe lontano dai nostri obiettivi ma ce ne sarebbe da fare perché pensate il gusto quando noi abbiamo un obiettivo di cambiare un pezzo del mondo il gusto di poter possedere le risorse per farlo dov'è il vero problema le nostre idee no ce le abbiamo quelle non ce ne manca anzi in Italia ce ne abbiamo proprio a profusione di idee è il potere di farle e questo passa anche non solo attraverso i soldi se io sono in grado di prendere possesso su un pezzo di questo segmento fondamentale questo è potere ma non è quello che desideriamo tante volte ci siamo svegliati diciamo vorrei cambiare il mondo io vorrei cambiare il mondo il fundraising ahimè o per fortuna serve soprattutto per cambiare il mondo quindi vorrei che in voi nascesse questo sottile piacere che dà il potere quando viene usato bene di dire con questo strumento io posso contribuire realmente a cambiare il mondo nel mondo nel settore della cultura adesso ne lo dobbiamo cambiare da tutte le parti va bene qualcuno si è sconvolto dice no scusate ho sbagliato corso vado via o può fare è legittimo tanto era gratis il corso non perde manco la quota ottimo andiamo avanti per contro che cosa non è il fundraising così sgombriamo subito il campo da equivoci non è una pratica tappabuchi anzi ti frega perché io per fare fundraising ho bisogno di spendere soldi stampare lettere fare una brochure fare un viaggio per andare da un'azienda che fregatura mi mancano i soldi faccio fundraising devo pure spendere altri eh signori che vi posso dire è così ecco perché non è una pratica tappabuchi poi se ho un buco in cassa mi strappo le vesti faccio di tutto per l'amor di Dio ma probabilmente non sto facendo un fundraising professionale cioè nonostante fatelo state nei guai incominciate a chiedere soldi questo è il mio consiglio personale ma da qui a dire sto facendo fundraising è un'altra cosa il fundraising non è solo raccolta di sponsor l'ho detto prima pratiche che per alcuni soggetti potrebbero essere anche residuali come vedremo soprattutto quando ci occuperemo di aziende sto mito dello sponsor l'azienda dà solo sponsor perché? perché intorno a ritorno a immagine pubblicità a volte io faccio ricerca di sponsor per gruppi teatrali che fanno dei pezzi rivolti a un determinato pubblico eccetera eccetera e sono numeri piccoli ma non gliene faccio un torto è quello che vogliono fare non è che gli dicono no guarda devi fare una cosa che viene più pubblico più eh eh se no no fai quello che vuoi non hai un prodotto da offrire come sponsorizzazione punto ci sono altri mercati e invece no tutti pensano tutti vanno dall'azienda dicendo ah se tu sponsorizzi la nostra iniziativa avrai un ritorno di immagini e pubblicità dall'altra parte c'è un uomo navigato che quando gli dici questo incomincia il suo contatore fa allora vengono mille persone allo spettacolo parlano quattro giornali l'audience potrebbe essere di venticinque mila persone mi sta chiedendo diecimila euro costo contatto è cento euro costo contatto cento euro mi compro tutta la repubblica per una settimana ciao e noi però gli abbiamo detto esattamente la cosa che non gli possiamo offrire avrai un ritorno di immagini qualcuno si arrischia a dire venderai di più i tuoi prodotti che è una cosa che manco le aziende sanno come se vendono di più i tuoi prodotti ma arrivi te dal mondo della cultura cretino non l'hai capito ma non lo sai che se finanzi il teatro il tuo business schizza questo gli hai detto e quello dice ma tu sei scemo sei venuto a fare teatro qui da me il fundraising non è una funzione periferica attenzione questa è un'altra mazzata non è una funzione periferica e collaterale rispetto alla direzione alla dirigenza al governo di un'organizzazione questa è un'altra proprio pietra d'inciampo storica che viene sempre dalla nostra cultura oddio dobbiamo fare fundraising ecco vi dico subito le strade che soprattutto il mondo della cultura prende Massimo che è semplicemente proprio l'ultima ruota del carro dai vai a trovare soldi guarda ti do l'ultima stanza in fondo al corridoio a destra no a destra c'è il cesso di fronte a sinistra ti chiudo là dentro trova sti benedetti i soldi quando hai trovato i soldi bussa noi ti apriamo perché la chiave ce l'abbiamo noi e così si fa a Fandresi cioè cerco di toglierlo dalle rogne della dirigenza perché? perché il dirigente deve pensare alla missione alla cultura e per carità quella medaglia che vi ho detto finalità mission e soldi no io artista penso al fine all'arte e qualcuno pensa al vil danaro sì bene continuiamo così che bello levarsi da torno sto peso infatti un altro modo per levarsi da torno questo peso e qui veniamo a una nota veramente dolente soprattutto in questo contesto è dire chiama un po' coi incagli quello non so come fa trova i soldi noi abbiamo un festival la gente lo dicono un mese prima che inizia il festival questo è il punto di partenza quando hai provato fino all'ultimo alla regione hai cercato di venderti una cosa che non posso dire a qualunque assessore per farti dare i soldi niente non se ne fa nulla coi inca abbiamo un problema ci trovi i soldi guarda che il nostro festival è fichissimo eh che non lo so eh lo conosco cioè vabbè ok possiamo impegnarci guarda se trovi i soldi fino a 30% te lo tieni te cosa? cioè allora tu mi proponi di lavorare a percentuale questa è una pratica che si usava e forse neanche si usa più nel mondo delle sponsorizzazioni sportive oppure si usa nelle marchette se tu sei amico dell'assessore e mi fai dare soldi a me non te preoccupare che una quota ci sta pure per te non mi pare di aver letto la parola fandresi allora gli spiego questa cosa qui e poi gli dico anche un'altra cosa scusami ma se tu mi puoi dare il 30% per una cosa che piace a delle persone hanno detto che bello do i soldi per quella cosa lì ma io ho dei problemi etici forti cioè io mi sputo in faccia la mattina quando vado davanti allo specchio se tu mi dici cooperazione allo sviluppo perché dobbiamo aiutare i bambini africani e io mi tengo il 30% di quello che deve andare ai bambini africani dico ma stiamo pazzi quelli non è che mi danno i soldi per la mia bella faccia e ti dico anche un'altra cosa che se oggi io vado da un'azienda come Massimo Coincagli che non si capisce bene com'è porta via i soldi dalle aziende che non è vero infatti ma l'uomo d'azienda io voglio parlare col presidente ma fammelo vedere questo che mi chiede i soldi perché io ho già capito che Massimo Coincagli è un intrallazzino che si prende la percentuale e l'azienda dice oh guardate che l'azienda ormai se può sta pratica non la fa manco più con i politici perché manco più i politici sono in grado di garantirgli tutti i favori che gli hanno sempre garantito in passato e infatti la nostra categoria in Italia come in tutto il mondo esclude nel suo codice etico che esista un lavoro a percentuale perché è vergognoso peraltro il lavoro a percentuale rispetto a giovani fundraiser vuol dire datti da fare se travi soldi bene se no hai lavorato per me e io non te pago parliamoci chiaramente è sfruttamento del lavoro io preferisco uno che dice guarda ti posso dare solo tot e se tu non sei capace straccio il contratto ci mancherebbe altro anche perché il fundraiser non è che deve andare a trovare i soldi deve fare tutto quello che serve per andare a trovare i soldi quindi come lo valuti il lavoro che io faccio per far crescere la tua organizzazione farla comunicare bene eccetera eccetera e ultima questione vabbè accetto la percentuale vorrei che ci fosse un avvegato e una commercialista che mi dice come si riesce a fare un contratto preciso in cui si stabilisce sta benedetta percentuale da che cosa dipende se io faccio una campagna di raccolta fondi con lettere a individui è capace che questa mi paga fra due anni cioè vuol dire che io per due tre anni devo venire alla tua organizzazione vedere il bilancio e andare a vedere lira per lira euro per euro se è imputabile la mia azione di due anni fa e qui c'è uno scienziato tutte le volte quindi sarebbe anche impossibile contrattualmente ma sto discorso non lo dicevo per amore di categoria ma per far capire che c'è proprio un errore di impostazione a monte un'organizzazione deve trovare soldi e cerca di esternalizzare il problema non me ne voglio occupare c'è qualcosa che non funziona proprio psicologicamente cioè vai avanti cento metri c'è il manicomio vai lì fa una visita perché proprio non ha una logica forte ed è la cosa più importante della tua vita perché stai chiudendo vi cito il manuale di raccolta fondi delle università statunitensi che sono la prima macchina di raccolta fondi al mondo centinaia di milioni di euro ogni anno ok allora questo manuale quando a me o mio collega Andrea Caracciolo ci è capitato in mano abbiamo letto sto passaggio abbiamo fatto i salti sulla sedia perché abbiamo trovato finalmente l'esempio concreto da dare questo manuale con stile molto statunitense dice chi è il primo donatore il primo fundraiser dell'università sarà il direttore del marketing della comunicazione no è il rettore il rettore ok e il secondo fundraiser dell'università chi è sarà il direttore marketing comunicazione no è il decano seconda trambata cioè chi è il terzo fundraiser dell'università sarà il direttore marketing adesso è arrivato cioè no è il ricercatore cioè quello che sta sul pezzo del progetto per il quale io chiedo soldi l'università ha un ufficio di 40 addetti nella marketing e comunicazione è evidente ma la governance il governo l'assunzione di responsabilità le politiche per trovare soldi attengono alla dirigenza chiamiamola così attengono alle figure che sono rappresentative dell'organizzazione il decano attengono a chi userà quei soldi che poi la lettera per chiedere soldi la scrive un tecnico un cosiddetto copywriter che sta nell'ufficio non c'è dubbio che poi ci sia uno che organizza le attività di pubbliche relazioni del rettore non c'è dubbio ma che il fundraising nasca nella stanza del rettorato quando c'è il consiglio di amministrazione dell'azienda altrettanto non c'è dubbio cari presidenti direttori di organizzazioni mi dispiace è una rogna che vi dovete prendere voi con tutto l'aiuto di tutte le persone dell'organizzazione ma è una rogna che vi dovete prendere voi se no non funziona è solo questa la ragione poi alla fine non funziona non è semplicemente raccogliere fondi se ritorniamo alla definizione che vi ho dato prima appare chiaro ma è contemporaneamente comunicare in un certo modo professionalmente fare management perché se non c'è organizzazione il fundraising ciao relazione con gli stakeholder se vuoi prendere i soldi dalle aziende che in questo caso sono uno stakeholder un interlocutore un portatore di interessi dice allora quando è che io ho relazioni con le aziende quando mi servono soldi toc toc vado dalle aziende e no e no e no e no mica sta bene e non sta bene così no signora mia questa è maleducazione tu il rapporto con le aziende ce lo devi avere sempre se tu ritieni che sei un interlocutore importante e l'azienda ti chiama a un convegno ce devi andare cioè tu parli i convegni di confindustria e ce devi andare uguale te lo vuoi sposare e tocca che ce vai ti hai invitato a casa sua devi far conoscere mamma e papà tocca che ce vai se no non si può fare dice no ma io preferirei non ci possiamo vedere solo per fare l'amore e no guarda devi beccare pure mamma e papà spero che anche questo concetto sia passato chiaro controllo di qualità perché la gente che ti dà i soldi poi vuole vedere che è successo con i tuoi soldi e allora io glielo devo rendi contare devo essere in grado di valutare se e come quei soldi hanno prodotto qualità e glielo devo restituire guardate che questo tipo di donatore è in forte aumento ma non solo degli individui tutte le aziende ormai ragionano così le fondazioni ragionano solo così ti danno soldi e vogliono vedere che è successo perché se non è successo niente tu per 5-6 anni non mi vedi più ma è giusto così come io compro un sapone se non lavato lo tiro a presto ho capito che la pubblicità era carina ma fa schifo ciao ho buttato i soldi è giusta la logica è giusta è sacrosanta è la logica della qualità che è la vera base della concorrenza leale e quindi signori miei se io dico teatro per tutti e mi hanno dato dei soldi per fare teatro per tutti o gli porto in dota alla fine che il pubblico ha aumentato dell'80% e sono venuti a vedere teatro persone che lo odiavano o se no i soldi sono stati buttati via vi è chiaro? ottimo assolutamente il pubblico ha dato soldi senza assolutamente nessuna valutazione di qualità se non quanti voti te porto adesso estremizza non è sempre così per l'amor di Dio dai non facciamo i soldi italiani che c'è sempre la dietrologia però ha pesato questo fattore e come? ma fate di nomi e cognomi vagonate di soldi a grandi istituzioni per produrre mostre assolutamente orribili no una la devo citare ministro Rutelli allora mostra su Caravaggio alla stazione di Roma figo alla stazione di Roma figo bello la vado a vedere un quadro non la quello vero una copia e accanto le radiografie di questo quadro con la storia di un restauro pa biglietto dice gratis aspettavo un treno no biglietto vabbè la mostra dove continua uscita vabbè andiamo al libro che in genere sta no e questo libro questa è bella proprio questa scena per me mi ha cambiato un po' la vita questo libro in cui in genere il visitatore scrive no con te che bella mostra cosa meravigliosa e sopra c'era uno striscione che vedevo di due per sette metri con la sfilza degli sponsor vi potete immaginare tutta ex roba della pubblica amministrazione Eni Italtecna come si chiamano quelli che adesso stanno tutti in galera fin meccanica vagonata dei soldi sotto l'alta direzione di con il contributo di il ministro in vita a pom 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 apri il libro che schifo ladri fa culo qualcosa anche in tedesco ho visto ma immaginavo che il tono più o meno era lo stesso che c'erano troppe hk punti esclamativi capito? lì ci saranno stati due milioni di sponsor e quindi è chiaro che noi abbiamo abituato male questo mondo proprio dicendo no i soldi non si danno per la qualità quindi attenzione che il vero problema del fundraising come vedremo non è tanto capire i suoi principi e le sue tecniche le tecniche si imparano non sono cose particolari particolarmente difficili non c'è magia qua dietro c'è solo sistematicità ordine eh il vero problema è la crescita e l'innovazione organizzativa che serve per fare fundraising perché vuol dire relazionarsi con il mondo esterno in maniera diversa vuol dire fare controllo di qualità tutto quello che vi ho detto e il cambiamento organizzativo l'innovazione organizzativa che a dirla è una cosa bellissima è uno dei motivi di maggiore stress di tutte le organizzazioni bisogna cambiare abitudini modo di lavorare gestione dei tempi è una cosa faticosa e quello è il vero problema del fundraising l'innovazione che è necessaria che è un'innovazione culturale organizzativa tecnologica e quant'altro bene signori bloccatemi eh se è necessario dobbiamo raccogliere fondi eh ma cominciamo a creare delle grandi categorie cominciamo a mettere ordine abbiamo almeno tre grandi tipologie di fundraising che è legata poi a tre grandi aree di bisogni che qualunque organizzazione ha chi più chi meno il primo chiamiamolo fundraising istituzionale è perché questa organizzazione deve campare di per sé qui dentro noi ci mettiamo la parte più zozza del fundraising devo pagare la bolletta devo pagare il personale quella che è la cosa più difficile da chiedere fuori che infatti in genere è legata ai soci cioè a quelli che in qualche modo sono già dentro l'organizzazione e si assumono una responsabilità rischiando per me un socio attivo non un socio sulla carta un fondatore di un'organizzazione è come un imprenditore rischia senza rischio queste cose non si fanno ma questo già lo sapete perché se no stareste qua è quel fundraising quindi che serve a finanziare la struttura l'ente in sé aumentare o mantenere la propria dotazione certe cose non le posso fare se non ho la luci le luci così le devo avere sono cose che sono sì collegabili ai miei progetti e ai suoi risultati ma sono un po' un a priori diciamo la dotazione di base poi c'è quello che si vede di più il fundraising sul progetto che in genere è una campagna straordinaria faccio un festival devo andare a trovare gli sponsor ok è legata quindi a un fatto specifico e qui ci sono tutte le campagne che in genere vi arrivano a casa per lettera ogni tre secondi muore un bambino se non interveniamo in genere hanno un inizio e una fine così come una campagna di raccolta sponsor per un evento va bene attenzione abbiamo un terzo tipo di fundraising che è investimenti per lo sviluppo perché a me non mi basta fare quel festival ho un nuovo progetto culturale per farlo però devo trovare in qualche modo delle risorse sto cercando soldi non su una campagna di un intervento in Africa che sto già facendo e neanche per mantenere l'esistente sto cercando degli investitori parliamoci chiaramente questo ha le sue difficoltà ma è anche forse la parte più bella del fundraising io qui vado a vendere non cose non fatti ma belle idee belle idee e dimostrazione della capacità di attuarle a determinate condizioni e quindi qui porta più che a filantropia più che a sponsorizzazione che non si può applicare a una cosa del genere perché la sponsorizzazione ci deve essere un fatto che esiste se no caspito mi sponsorizzo qui ci sono partnership joint venture con partecipazioni adesso dico dei nomi per dare un po' l'idea non è che sono nomi tecnici formali in un'organizzazione magari un po' per volta devo mettere in moto secondo i miei bisogni tutte e tre queste tipologie di fundraising perché se alla lunga non metto in moto manco questo io ho un limite temporale lungo forse sarà l'ultimo problema cioè quello di non avere una prospettiva di crescita e siccome non partiamo mai che valiamo 100 partiamo che valiamo 10 vogliamo arrivare a 100 o io faccio un fundraising che guarda lo sviluppo già sono strategie di fundraising a 2 a 3 a 5 anni o se no non ci arriverò mai è molto legato alla visione di un'organizzazione mentre invece gli altri due punti è legato al fare all'oggi siccome dobbiamo andare a chiedere i soldi al mondo esterno per la cultura ci dobbiamo domandare ma che senso ha per il mondo esterno dare soldi a noi perché attenzione qui facciamo un minimo di filosofia del fundraising se il gesto di dare dei soldi non produce un senso nessuno qua fuori lo farà al limite al limite al limite la carità ma non è proprio la cosa che a noi ci interessa la carità si fa anche senza senso poi a scavare il senso ce l'ha mettersi a posto una coscienza guadagnarsi un metro quadrato in paradiso con 20 donazioni c'è una stanza in paradiso allora domandiamoci ma qual è il senso di dare soldi per esempio per la cultura piuttosto che per altre cause sociali allora cercando di fare una tipologia perché poi ogni individuo ha il suo sistema motivazionale e lì è difficile essere precisi però alla grossa e guardando un po' la storia del fundraising noi possiamo dire che ci sono quattro modi di intendere dal punto di vista del donatore il finanziamento la donazione è un modo generoso di gestire la nostra ricchezza nella misura in cui siamo ricchi ma avanzano i soldi pellicce quello che mi pare è anche donazioni che è un modo generoso di gestire questa ricchezza questa è la base della buona vecchia filantropia Bill e Melinda Gates siamo diventati ricchi che bello ci compriamo le ville siamo esclusivi e poi siccome siamo generosi doniamo qual è il limite di questo approccio meno ricchezza non ne dobbiamo parlare non ne dobbiamo parlare di questo è meno ricchezza vorrebbe dire meno fundraising finito chiuso il fundraising e guardate che negli ultimi anni di crisi economica qualcuno ha detto è la fine del fundraising perché aveva in testa solo questo significato del dare soldi grazie al cielo la società è molto più avanti di noi non è assolutamente vero se fosse vero per tutti questo significato veramente avremmo chiuso e invece è chiaro che con la crisi economica c'è stato un calo della raccolta fondi ma nelle entità delle donazioni i donazioni non sono scappati anzi tenete conto che alcune cause sociali hanno visto l'aumento del 10-15% dei donatori come dice un antico proverbo africano la generosità non è un fatto di ricchezza era detto meglio però me lo ricordo così era più poetico però il concetto era questo ok quindi grazie al cielo non è solo questo il significato se no veramente avremmo chiuso due è un modo civico oltre che religioso di fare la carità che in genere è legata a un discorso che io faccio con me stesso quello più tipico è il discorso ma un qualche senso di colpa c'è mai fatto qualche cosa non so buono però per esempio l'occidente ha inguagliato l'Africa potrei dirne uno no oppure ma noi poi abbiamo fatto il lavoro consumiamo in un certo modo e ce ne siamo fregati di una parte povera della realtà della mia città non è che sono andato a bruciaglie casa però in qualche modo mi sento responsabile o per ragioni civiche o per ragioni religiose la carità peraltro per chi la approccia questa cosa da un punto di vista religioso è una cosa che devo fare perché poi dopo su al paradiso San Pietro fa la spunta hai fatto la carità no è porca paletta questa è una fregatura qual è il limite di questo approccio meno sensibilità per i problemi meno sensibilità per la società meno sensibilità per la cultura meno fandresi in parte è vero ma anche da questo punto di vista io sto tranquillo la società tende ad avere una forte sensibilità su bisogni sociali l'abbiamo educata per questo e gli effetti si vedono no 40 anni fa non ci saremmo preoccupati per la mancanza di alcuni servizi sanitari eh signora mia si muore prima o poi no adesso ten cavoli diciamo non mi fanno morire a 60 anni ma non esiste proprio quindi non è vero che la sensibilità viene meno adesso vado sugli esempi sulla cultura per esempio si dice gli italiani analfabeti non comprano libri scusate qualcuno si è domandato se non compriamo libri perché l'80% dei titoli sono delle cagate pazzesche non va più al cinema ma avete presente che su sky seduto a casa mia mi becco quello che mi pare anzi su internet ormai ma come devo abbonare su sky no si parte subito con i luoghi comuni eh l'italiano la cultura ma che fesseria i giovani poi non ne parliamo giovani non ne parliamo adesso mia figlia ha 22-23 anni da quando ha 14 anni non è un genio né io gli ho dato un'educazione da genio un amore sconfinato per la letteratura scrivono fiumi di romanzi con le sue amiche che non verranno mai pubblicati come la devo chiamare questa è una lettrice famelica l'altro mio figlio pur di leggere si leggeva le istruzioni della lavatrice me lo ricordo a otto anni sul divano che sfogliava sta cosa dico Giorgio che stai facendo leggo vabbè leggeva anche la cucina italiana però ecco a casa mia c'è sempre stata e ogni pagina che girava faceva come la devo chiamare questa quindi io non ci credo neanche a questo però per una parte evidentemente del mondo fuori questo è un significato che può essere prodotto dalla donazione c'è un terzo modo questo è più moderno molto interessante essere d'accordo con l'importanza della cultura nel nostro caso perché è l'accesso alla conoscenza e per tante ragioni che sono dietro la nostra causa sociale perché? perché produce un beneficio sociale e perché no anche personale nel caso della cultura va proprio detto questo è un beneficio personale qual è il limite di questo approccio che sulla carta è proprio il migliore di tutti non c'è dubbio lui condivide il mio progetto sta dalla mia parte lo sostiene ah che pacchia il limite è tutto interno alla nostra azione perché se noi come enti culturali non siamo in grado di produrre efficacia cioè capacità di raggiungere gli obiettivi uno che ha sposato che ci dà i soldi per questa ragione stacca la spina cioè ci sarà meno fundraising questo ormai comincia a apparire chiaro nelle poche escarupate indagini sul fundraising che abbiamo in Italia ormai da tutte le ricerche emerge che c'è io lo stimo tra un quarto e un terzo della popolazione donatrice italiana che quando gli si chiede ma che cosa non va adesso vado alle spicce in questo sistema è che io non vedo il risultato dei soldi che do e questo è uno che stacca la spina guardate peraltro non è che stacca la spina perché uno che ha deciso che deve partecipare dare i soldi li dà a qualche un altro poi anche quell'altro non rendi conta bene non gli fa vedere come si raggiungono gli obiettivi va da un altro poi si stufa e dice come qualcuno incomincia a dire il non profit è un'enorme presa per i fondelli allora nelle indagini che si sono sempre fatte in Italia sul grado di fiducia nei confronti di determinate persone il non profit era sempre nei primi uno due tre posti insieme agli ultimi posti c'erano politici giornalisti sempre ok eravamo insieme alle forze dell'ordine insieme ad altre cose del genere non è più così non è più così scontato stiamo sempre nella top ten ma non è più così scontato ma perché siamo diventati tutti cattivi no perché è cresciuto il mondo fuori e dice ok il non profit è buono non solo perché è animato ma perché mi produce cambiamenti se no non me ne faccio nulla un terzo della popolazione due terzi invece dona col cuore non ci pensa troppo ma un terzo è pesante e tenete conto che questo terzo è quello candidato ad accompagnarvi in un periodo lungo se ha questo approccio quello della carità oggi la fa te domani la fa qualche di un altro quella della generosità è guarda il portafoglio oggi mi avanzano i soldi domani no tendono a essere donatori occasionali che per noi sono una mezza fregatura perché un anno può andare bene l'altro va male come ci faccio lo sviluppo della mia organizzazione con quelli e poi c'è un quarto modo tipicamente italiano di cui dobbiamo tenere conto con grande attenzione qua qualcuno abbassi un po' la testa perché là in fondo finiscono la lezione che hanno un torcicollo da paura è un modo concreto per essere parte di una comunità condividendone le sue istituzioni questo è un approccio tipicamente italiano si dona perché donare per una causa sociale che è condivisa da una comunità è il segno di appartenenza a una comunità è anche il rispetto delle regole sociali perché non sono regole scritte no di solidarietà di reciprocità rispetto alla comunità sicuramente avete visto i film di Peppone e Don Camillo vero? tante volte e non si smetterebbe mai di vederli c'è uno degli episodi che spiega quello che vi sto dicendo se qualcuno se lo ricorda adesso lo richiamo alla memoria è uno dei tanti episodi in cui a un certo punto il contendere tra comunisti e preti è sul fatto che i preti devono costruire la casa delle orfanelle e i comunisti la nuova casa del popolo e c'è una scena meravigliosa che è il fundraising italiano c'è questa enorme piazza di un tipico paese padano via Dana se non ricordo male vicino al Po in cui si vede la fila delle piedonne di carità a testa bassa mentre cantano sono stati miei che mettono i soldi nella bandiera rossa e poi ci sono i comunisti mangiapreti con l'aria torva e il cappello calato sugli occhi per non farsi riconoscere che fanno la fila davanti a Don Camillo e mettono i soldi dentro il cappello del prebosto perché in questo caso va chiamato prebosto ok? perché è esattamente la dimensione comunitaria è un bene della comunità il campanile è un bene della comunità se voi andate in molti paesi piccoli o grandi che siano per esempio della Toscana e dell'Emilia Romagna voi troverete una grande istituzione italiana che sono le pubbliche assistenze o le misericordie poi ce n'è qualcuna anche al sud ma è un fenomeno tipicamente del centro Italia eh? e se c'è la campagna per prendere la nuova ambulanza e tu non dai soldi sei un bastardo non fai parte della comunità ed è giusto così cioè ma a me non mi servirà mai l'ambulanza chi se ne frega è un bene della comunità e poi se può mai dire eh? attenzione però è questo il messaggio per la cultura meno comunità oppure ve lo dico più moderno meno community meno fundraising se noi non creiamo e io dico riscopriamo il valore comunitario della cultura perché in Italia la cultura è un valore comunitario oltre che un valore di altro genere eh? io avrei molti esempi ne farò solo uno o due se noi non manteniamo questo vivo forte rapporto con la comunità verso il quale spesso invece tendiamo a divorziare a volte convincendoci che la comunità non ci capisce la cultura della comunità è troppo basa lo facciamo anche con amore perché vorremmo cambiare la cultura in parte è vero ma o rientriamo in sintonia non con gli spettatori non con i frequentatori delle nostre attività con la comunità o se no perdiamo questo senso che ha dare soldi ok? dice dare soldi per le biblioteche sapete come sono nate le biblioteche pubbliche in Italia? lo sapete? io siccome adesso mi sto occupando molto di fanderessi per le biblioteche perché mi chiamano me la so studiata una storia appassionante una storia commovente uno si immagina che a un certo punto verso i primi del novecento è stata fatta una legge per cui ogni comune deve avere una biblioteca una cosa giusta no in verità sono state fatte delle leggi per rendere sistema una cosa che era popolare tra la fine dell'ottocento e i primi del novecento nasce in Italia spontaneamente la rete delle biblioteche popolari in dieci quindici anni diventano ventimila qualcosa del genere adesso forse il numero vado a memoria ma qualcosa del genere che nascono su una base di autofinanziamento autocuotazione non ci sono fondi pubblici c'è qualche filantropo senza dubbio questo è uno tra gli esempi ventimila biblioteche popolari si dotano di una struttura di un coordinamento nazionale e siamo i primi del novecento il bene della comunità il bene delle persone questa è cultura la cultura nasce in questo quanti teatri vado a vedere l'origine della sua storia sono teatri costruiti con i soldi del popolo la società umanitaria il circolo degli operai e oggi sono teatri comunali e uno pensa che siano cose che sono state inventate dal welfare state hanno un'origine comunitaria e dico l'ultima che è pesantissima oggi noi voi sapete che in Italia esistono le fondazioni di origine bancaria sapete? per favore ditemi di sì se no mi schianto sul tavolino ok bravo grazie no perché da sole ogni anno erogano qualcosa come un miliardo e trecento milioni quindi lo dovete sapere le fondazioni di origine bancaria sono il risultato di un'azione di legge per cui a un certo punto alle casse di risparmio capisco che al sud è una storia ce ne abbiamo 4-5 al sud e sono tutte scarupate quindi capisco che al sud centro-nord invece sono tante e ricche sono il procedimento che è stato fatto per legge da Amato e Ciampi per cui si è detto le casse di risparmio prendiamo la principale cassa di risparmio delle province lombarde più conosciuta come Cariplo si dice attenzione questa che è una cassa di risparmio ed era una banca sui generis infatti era trattata in maniera diversa da una banca commerciale non faceva parte dell'associazione banca italiana ma dall'associazione casse di risparmio perché? perché erano diciamo delle banche popolari ma sono diventate delle banche a tutti gli effetti giocano sui mercati mondiali dice quindi attenzione scorporiamo la banca faccia la banca e la parte popolare deve ritornare ad essere un referente della comunità locale e facciamo le fondazioni di origine bancaria allora se noi risaliamo alla storia delle origini delle casse di risparmio delle banche mutue allora sono banche create dalla comunità locale per difendersi dai rischi per avere risorse da investire sullo sviluppo della comunità creare opere d'arte è chiaro che noi oggi li guardiamo un po' come mezzi bastardi perché c'è stata di mezzo una storia ma Monte Paschi Siena che oggi è un nome che ho detto tutto perché leggete tutti il giornale nel 1200-1300 Monte Paschi Siena questo era la comunità senese che investe sul suo sviluppo la sua sicurezza e il suo benessere quello è l'inizio del welfare signori il welfare ce lo siamo inventati noi così in Italia la comunità è un'invenzione italiana ecco perché noi siamo molto comunitari nel fundraising perché l'abbiamo inventata noi la comunità non è un'invenzione esistevano le tribù esistevano altre cose non è un caso che abbiamo 9000 comuni 180.000 campanili l'abbiamo inventata noi nel medioevo la comunità non sto dicendo uno sproposito è così è un'invenzione sociale e guardate che è la comunità che ha fatto invenzioni straordinarie noi pensiamo che gli ospedali esistono gli ospedali sono stati inventati dalle misericordie d'Italia cioè oggi siamo misericordie d'Italia dalle misericordie in Toscana verso la fine del 1200 prima non esistevano gli ospedali un sistema organizzato di cura della salute e di pronto intervento non esisteva non so se mi spiego prego certo molto volentieri così evito di essere ne siamo proprio convinti io ho imparato a conoscere la storia del sud come molto diversa dalla storia del centro e del nord Italia noi non abbiamo avuto i comuni noi siamo passati direttamente dal feudalesimo al neofeudalesimo il sud non ha conosciuto né la storia dei comuni ha conosciuto delle grandi signorie feudali ma fortemente legate al regno di Napoli e poi in particolare parlo del Salento in particolare per dire un'analisi anche solamente visiva del nostro barocco ci fa capire che siamo passati direttamente dal medioevo al barocco senza conoscere il rinascimento e l'umanesimo assolutamente sì questo è vero sicuramente queste sono cose che incidono moltissimo sui comportamenti assolutamente sì culturali ancora oggi come radici come eredità storica questo senza dubbio e questo può essere vero anche per alcune il Piemonte non è tutto uguale ci sono molte vallate in cui quello che vi ho raccontato non è forse una storia che è sicuramente più forte nel centro Italia dove sono nati appunto i comuni però al di là di questo siccome io non sono uno storico e quindi non mi posso arrischiare più di tanto l'ho letta questa storia per spiegarmi un po' i motivi profondi del fundraising però io mi ricordo proprio come esperienza personale viaggi nel Molise una volta mi chiamarono perché io in gioventù mi occupavo di protezione civile mi innamorai enormemente dei rischi e dei cittadini che si difendono dai rischi e in Molise in Abruzzo ci fu un terremoto e mi chiamarono a fare delle conferenze su come i cittadini si possono difendere dai rischi in alcuni paesi del Molise in particolare me ne ricordo uno Agnone va bene? ok Agnone mi chiamano ad Agnone dove si tiene questa conferenza si tiene questa conferenza in una piazza ma intanto c'è un esempio qui vicino ve lo cito c'è una piazza in cui ci sta il posto dove tengo la conferenza che è la società degli intellettuali si entra a Agnone un paesotto contadini niente di particolare arrivo nel centro della città società degli intellettuali e mi aspetto dico ammazza mi hanno portato nella parte eh di fronte la società operaia cento metri più avanti il teatro comunale che è stato fatto da loro due non ti sto parlando del medioevo questo ti do ragione non ti sto parlando del rinascimento che nel sud è evidentemente un fenomeno assolutamente relativo non ti sto parlando del barocco perché non è quello il periodo in cui la comunità è forte ti sto parlando ottocento novecento quindi sicuramente sarà una storia diversa allora dopo tanto tempo non mi occupo più di protezione civile mi occupo di raccolta fondi vengo in vacanza nel Salento e vado se non mi ricordo male a Nardò c'è una piazza mi guardo intorno su dodici entrate che danno sulla piazza otto sono circoli sì roba del passato fanno quasi ridere fanno quasi ridere otto circoli io ho visto una storia d'Italia di un sud in cui dentro la comunità si crea cultura magari partendo dall'appartenenza a una categoria reale società degli artigiani questo può far sorridere ma c'è una storia dietro con dentro delle persone che è vero giocano a carte se vogliamo ma che stanno dentro la casa della cultura e della comunità questo ci va bene? no vorrei vedere dell'altro però questo mi è testimone di una certa storia in Sicilia ho visto storie di cultura straordinaria da questo punto di vista comunitario invitato ad andare in Sicilia pensando di trovare solamente mafiosi che sparano a destra a sinistra poi dopo tu superi questa tremenda cortina che c'è sarebbe stupido dire che non c'è e entri in una società che ha dei livelli di autoazione di società civile attiva fortissimi con forti radici e tutte quante legate a un senso di appartenenza comunitaria poi non la voglio fare più lunga di questo e neanche fare le leggia della comunità perché poi attenzione la comunità ha anche dei forti limiti campanilismo è un limite provincialismo è un forte limite quindi per carità mai prendere un fenomeno tutto come buono e tutto come cattivo però mi piace richiamarlo perché in Italia a differenza del resto del mondo e qui la chiudiamo poi il fundraising più che essere generato da un'applicazione intelligente del marketing a una causa sociale quindi il marketing non per vendere saponette ma per vendere aiuto umanitario ha una radice molto più antica e profonda cioè quando gli inglesi c'è qualche inglese qua quando gli inglesi erano ancora dei barbari noi in Italia avevamo già il fundraising questo mi piacerebbe dire ogni tanto agli inglesi quindi tu sei molto più capace di me non c'è dubbio io mi inchino ma pulisci della bocca quando parli perché il fundraising noi l'abbiamo inventato insieme alla comunità poi ci abbiamo avuto un welfare state che abbiamo voluto noi abbiamo fatto bene abbiamo fatto bene perché il nostro sistema ospedaliero che fa schifo è il migliore al mondo andate al sistema ospedaliero sanitario americano poi ne riparliamo e ce lo invidiano in tutto il mondo però ha prodotto degli enormi paradossi la società civile non si occupa più delle cose viene esautorata dal potere dal protagonismo ci pensa lo Stato se ci pensava bene andava bene se ci pensava male andava male e anche molto male perché oggi do 100 in tasse e la sanità mi restituisce 10 quando parliamo degli stranieri su questo dicono ma perché non avete fatto ancora la guerra civile cioè voi date 100 e vi viene restituito un valore 10 i francesi mi dicono noi abbiamo una restituzione di 60-70 no 100 perché quello non è possibile sono i costi dello Stato sono tutta una serie di cose però io metto 100 e restituiscono a me personalmente un valore di 70 io sono una giovane donna in Francia non è un problema che ho dei figli piccoli continuo a lavorare questo poi vuol dire pago determinate tasse sono determinati servizi sto tranquillo adesso senza fare leggere la Francia che pure i francesi hanno i loro problemi per l'amor di Dio però insomma questa differenza si vede quindi c'è un paradosso che ha prodotto il welfare state che era una bella idea e che però appunto il paradosso qual è? esautorare la società dal fare direttamente delle cose e gestire le risorse che invece è l'origine nostra appunto ripeto addirittura le banche addirittura le banche era roba della comunità popolare da noi non è stato così da altre parti grandi banchieri olandesi non erano comunità che avevano dato vita a una banca erano perché c'era il centro del commercio internazionale avevano un'enorme quantità di soldi e si sono inventati il sistema bancario peraltro uno dei primi grandi banchieri olandesi mi hanno detto gli olandesi si chiamava Bortolotti come la mia mamma era italiano padano emiliano diciamo era il signor Bortolotti c'è ancora il palazzetto quando ti fanno fare la visita questo è il palazzo Bortolotti dico come? stavo dentro al battello che faceva le visite come come come? Bortolotti dico ma come? la mia mamma Bortolotti è stato uno dei più grandi banchieri nel 1300 che ha dato vita al sistema bancario olandese allora bando alle ciance vediamo qualche concretizzazione di questi quattro approcci perché attenzione noi possiamo scegliere il modo di intendere il fundraising che più è confacente con la nostra causa sociale ma dobbiamo avere anche la consapevolezza che il mondo fuori ognuno ha la sua motivazione quindi io se mi rivolgo a un determinato target pubblico o un uomo di azienda nel limite possibile dovrei cercare di capire ma qual è il suo senso di dare soldi perché se il suo senso di dare soldi è investire socialmente su una cosa che produce e io gli dico mi fai la carità lui non capisce come si dice a Napoli parlam en ce capim ok quindi la domanda è molto importante se io riesco a capire quel mio interlocutore che tipo di approccio ha gli faccio la richiesta giusta poi non è che devo fare la richiesta a chiunque io per esempio se sto nel mondo della cultura la richiesta per carità non la chiedo assolutamente perché mi daranno pure qualche spiccio già mi danno gli spicci e non mi bastano ma mi distrugge la cultura e quindi vado a perdere il valore di quello che faccio allora do i soldi perché sono ricco ecco qua della valle ben venga io mica mi fanno schifo questi eh me li prendo molto ma molto volentieri Colosseo accordo stiamo parlando di 25 milioni di euro quindi esiste questo approccio evidentemente è un modo generoso sicuramente con altri scopi ma è proprio la tipica filantropia non sono tantissimi quelli che in Italia se la possono ancora permettere ma non ci abbiamo pochi ricchi ce ne abbiamo più di quello che si pensa carità e qui vengo al caso di Torino che è veramente una cosa da suicidio proprio ma dire suicidio è dire poco è masochismo questa fu una campagna ideata dall'allora assessore alla cultura del comune di Torino che di fronte alla difficoltà di mantenere in piedi i musei e altre istituzioni culturali si inventa questa spettacolare campagna tanto di cappello per aiutare la cultura il cappello è il simbolo della carità si mette il cappello allora mi chiama dei giovani artisti e dice mi fate delle opere d'arte a cappello perché le metto davanti ai musei e lì ci faccio la campagna di raccolta fondi vabbè gli artisti non si sono fatti pagare ci mancherebbe altro ma costruire il cappello qualcuno avrà dovuto sostener i costi quindi già c'è un investimento per fare sti cappelli allora studiamola bene questa cosa io vado al museo e vedo un cappello alto così insomma voi lo vedete qui dentro ci devo mettere i soldi che soldi ci si mettono dentro al cappello? quelli che a Roma chiamiamo i ramini cioè quelli che se non li producevano per noi era meglio i centesimi i spiccetti in tasca questo si mette nel cappello non ci metto i fogli da 50 ma no ma anche perché il foglio da 50 uno passa lo vede mette la mano e se lo prende cioè se non altro per questa ragione è di buonsenso vabbè diciamo che so ramini anche qualche foglietto vabbè se io arrivo a questa altezza quanto avrò fatto? di più no di più molto di più avrò fatto tanti soldi guarda se faccio così avrò fatto almeno mille du mila euro va bene? ma io vado lì e guardo che sensazione ho? nulla sto cappello non raccoglie fateli più piccoli i cappelli perché è evidente che se questa deve essere una campagna che ha successo devo vedere che tutti partecipano e infatti se voi andate negli aeroporti e vedete i raccoglitori di fondi un bravo fundraiser sa che quando lo monta per metà lo deve riempire lui perché la gente ha voglia di dare soldi a una cosa che ha successo se io lo vedo sempre condulire ce metto a fare sì, quel cretino che non ha cambiato prima di ripartire in Germania no, in Germania no negli Stati Uniti d'America ci ha lasciato un quarto di dollaro va bene? e poi parliamo e poi c'è un problema di sicurezza perché se questo si riempi io devo portare l'esercito a Torino cioè ci devo mettere i piantoni davanti tutta la notte il che avrebbe anche un costo ok? e poi c'è il discorso dell'immagine la cultura è alla canna del gas ormai gli si può fare solo la carità questa è una cosa che è molto peggio delle cose che vi ho detto prima peraltro la campagna è stata un fallimento e vorrei vedere il bilancio di questa campagna non perché qualcuno si è fregato i soldi perché c'era proprio niente da fregare là ma perché alla fine gli è costato molto di più di quello che hanno ricavato quindi si sono dati pure la zappa sui piedi diciamo che è rapidamente passata nel silenziatoio questa campagna grazie al cielo pessima campagna di comunicazione dice vabbè ma io non l'ho fatto per raccogliere soldi e per fare una campagna di comunicazione allora non sei solo pazzo sei un delinquente perché stai dicendo che nel posto in cui ci sta l'80% del patrimonio culturale del mondo noi chiediamo la carità per la cultura cioè è una cosa da denuncia all'ONU se mi rispondesse così io ti giuro gli esalto al collo è meglio se mi rispondi no vogliamo raccogliere un po' di soldi dico vabbè hai fatto bene certo se mi davi un colpo di telefono due tre idee te le davo perché poi anche st'idea facciamo tutto in casa ma cacchio sei un assessore comunale ma alza il telefono chiamo un consulente fai un tavolo non lo voglio di manco che devi spendere soldi fai un tavolo invita me i miei colleghi ragioniamo figliore se ti chiedo i soldi per questo basta che mi paghi il viaggio a Torino mi porti a cena mi fai mangiare bene per la cultura lo faccio santa pace oppure ti dico di no e dici vabbè coincagli un bastardo ma almeno fai questo non è che te svegli la mattina sto genio del fan dreser del fan dresi ecco questa è una cosa proprio che a me mi ha veramente atterrito comunità perché io adesso ho evocato scene da fine ottocento l'Italia dei comuni no 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 attenzione sto parlando del festival della letteratura di Mantova un gioiellino il prototipo dei festival eh il primo festival come oggi lo intendiamo e infatti tutti l'hanno copiato anche Roma festival non della letteratura festival di letteratura furbacchioni di Roma no allora se voi andate fatelo sul sito del festival della letteratura di Mantova scoprite molte cose che fanno capire che loro hanno interpretato bene la dimensione comunitaria della cultura perché ci hanno due cose uno hanno forte ancora nonostante sono una macchina da guerra di marketing hanno forte ancora l'associazione festival della letteratura che sono gli amanti della letteratura di Mantova e che garantiscono che questa è una cosa che ha una forte identità locale cioè che lo vuole la comunità non viene fatta perché c'è la casa editrice che vuole investire per pubblicizzare libri ci starà pure quello ma le fondamenta sono la comunità che si sono inventati una cosa per il loro benessere e chiaramente per ospitare attrarre e quindi loro investono e spendono tempo per avere una forte associazione amici del festival adesso non si chiamo così amici comunque è un'associazione senza finalità di lucro che adesso ha aderenti da tutta Italia perché c'è gente che ci va ogni anno al festival della letteratura vuole la newsletter si vuole tenere in contatto vuole appartenere e sognerebbe credo di abitare a Mantova dove si vive per alcune cose divinamente bene io in una città sotto un milione di abitanti non resisto un mese ma è una questione personale molti invece sognerebbero di stare in un gioiellino dove si vive bene dove c'è il festival della letteratura senso di appartenenza a una comunità addirittura a distanza perché grazie al cielo siamo nei tempi moderni si può fare pure a distanza tutto ciò bisogna per forza abitarci seconda funzione animano il festival abbassando i costi di gestione perché i volontari se tu vai a Mantova qualcuno di voi c'è andato al festival della letteratura di Mantova? no allora ve lo racconto io vabbè a me è capitato così che io arrivo a Mantova e mi trovo immediatamente un volontario con la maglietta del festival che mi accompagna ma non è che solo mi accompagna ma questo quello che farebbero le agenzie di hostess steward che costano l'ira di Dio e sono finti ma più finti di non so che cosa questi invece sono veri e questo qui allora inizi a parlare con me ed è un cittadino come me che ama la letteratura come me e parliamo del più e del meno e lui mi dice noi a Mantova abbiamo il latte che viene direttamente dalle fattorie e dico ma come fate? guarda abbiamo il distributore automatico vieni qui con la bottiglia ci metti dentro l'eurino e esce fuori il latte per dirvi perché mi colpisce questa cosa qui perché io vado al festival della letteratura di Mantova è una kermessa vedo il libro vedo l'autore che figo conosciuto Tizio e Cagli e Sempronio e vivo questo è un contenuto della cultura fruttiva vivo di una comunità guardate c'è un altro festival che ha questa forza con una storia diversa è il festival del cinema dei ragazzi di Giffoni e Vallepiano che anzi addirittura lì è stata secondo me una idea geniale perché Giffoni e Vallepiano dopo il terremoto dell'Irpina e del Basilicato uno di quei comuni che se si chiudeva ma perché non li chiudiamo questi comuni questo è quello che si diceva mille, du mila poi Giffoni e Vallepiano è un pochino più grande voi sapete come è nato? è nato per la passione come nel festival della letteratura è nato per la passione di un gruppo di persone in particolare insegnanti di scuola per il cinema per ragazzi e la prima edizione è stata fatta ancora a nuovo ricordo quasi nel silenzio generale proiettando i film sui muri scrostati del terremoto ma c'era la forza della comunità dentro anzi dopo un terremoto c'era un'occasione di cemento di identità comunitaria vogliamo dirla tutta di marketing territoriale perché se no Giffoni e Vallepiano è costretta a sparire e oggi Giffoni e Vallepiano lo sa Nenino che cos'è ah Giffoni yes Nenino io voglio andare Giffoni capito? quindi se poi andate alla sezione sponsor tolti i grandi sponsor che già stanno qui sono 5-6 per edizione e cambiano Trattopen Illy Caffè no Illy Caffè ci sta quasi sempre Conad Sidis ok c'è questo che loro li chiamano sponsor ma per me è azionariato popolare guardate li dovete cercare in ordine alfabetico addirittura è un database di sponsor non più di 250 ma vediamo i nomi dice perché che ci trovi qua ci trovi l'azienda locale sì ce la trovo albergo Bianchi stazione dice perché l'ha fatto è evidente c'è il festival viene gente gli alberghi sono tutti pieni se non te muovi in tempo non trovi da dormire a manto Agrilandia il casale del mare ok sì questo evidentemente c'è un interesse attrae si fa conoscere AID Associazione Italiana Dislessia Onlus ma come questi i soldi li prendono mica li danno sono sponsor e allora posso dire che stanno facendo una sponsorizzazione commerciale l'associazione italiana Dislessia Onlus no sta pagando la quota per essere parte della comunità io non me lo so spiegare in altro modo è un azionista popolare non saprei come altro chiamare prima che si sono azionisti popolari AIDA Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d'Azienda hanno niente da pubblicizzare devono far vedere che loro sono impegnate per la cultura e fanno il loro porco dovere per Mantova ci hanno pure i soldi dov'è il problema altro mercato all'Italia oh finalmente è una sponsor come Cristo comanda ok però anche all'Italia ci hanno messo i soldi quindi se avessi trovato solo all'Italia 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 sarebbero stati sponsor in senso tradizionale questi li devo chiamare sponsor di comunità non lo so come chiamarli è una bella invenzione questa qui ecco quando dico il fundraising di comunità condivisione del progetto questo è un piccolissimo teatro di Padova si chiama il teatro dell'inutile il fundraiser di questa organizzazione è una mia cara collega si chiama Mariana Martinoni molto brava la sua caratteristica è che è un teatro piccolissimo fate conto beh sto blocco dove sto io 30 spettatori però con una peculiarità unica cioè chi va a uno spettacolo non guarda uno spettacolo vive uno spettacolo per ragioni proprio logistiche ci sta dentro attorno dietro è contemporaneamente nelle quinte sul palco e negli spalti è l'unico posto dove puoi vedere veramente la sputazza dell'artista e la puzza del suo sudore è un'esperienza unica va bene non vi sto parlando di una cosa di grande eccellenza no no però chi va lì è unico c'è un forte limite nel fundraising botteghino che gliele vuoi fa? non è che li puoi mettere uno a cavaciccio con l'altro non si può fare allora però qui dietro c'è un progetto che è esattamente un certo modo di vivere il teatro e i donatori di questo teatro non parlo di quelli che pagano il biglietto i donatori perché tanto 30 solo ne possono entrare fai le repliche fai tutto quello che ti pare qual è il tuo pubblico? c'è un pubblico intorno e magari ci va una volta sola quando trova posto che però condivide il progetto e lo sostiene perché non hai tante altre occasioni di vivere il teatro così è chiaro un pubblico di amanti del teatro questo non c'è dubbio eh? allora questo per me è il caso in cui uno se dà soldi e non li dà al teatro Reggio De Padova non esiste ma insomma ha le strutture importanti evidentemente li dà perché qui c'è un progetto culturale bene questo è per dire come si possono poi concretizzare questi diversi diciamo modi di intendere le donazioni quindi una prima domanda fondamentale ancora prima di mettere in mano la strumentazione del fundraising è quella di dire ma qual è il senso del fundraising per la cultura? Quello che già ha l'opinione pubblica quello che noi vorremmo avesse qui c'è un'azione di cultura del fundraising che noi dobbiamo fare noi per fare bene raccolta fondi dobbiamo anche comunicare bene la raccolta fondi dobbiamo fare un discorso con il quale stipulare passatemi il termine un patto con il mondo esterno a quali condizioni perché dare i soldi con la cultura perché se questo non produce senso nei nostri interlocutori i soldi non escono fuori noi per esempio alle aziende abbiamo sempre trasmesso un senso che le aziende non lo comprendono e che quello lì tu fai business diventi ricco per diventare ricco vuol dire che sei un cane arrabbiato un barracuda e quindi è giusto che una parte del tuo profitto lo dai a noi questo è quello che gli abbiamo comunicato tu remi contro la cultura noi siamo a favore della cultura mi devi restituire mi devi dare i soldi perché ti devo dare i soldi perché sei ricco a parte bisognerebbe capire se veramente le aziende sono ricche o meno non sono tutte ricche e non tutte ricche allo stesso modo ok ma gli abbiamo detto questo qual è il senso per te di dare i soldi è che hai un profitto una parte del profitto lo dai a me mazza veramente motivante oppure quello che vi ho detto no perché avrai un ritorno di pubblicità enorme ma quell'azienda sta cercando un ritorno di pubblicità da te ha senso questo per loro mi compro cento spazi di pubblicità sulla televisione al giorno ha senso per me che tu mi vieni a dire che mi fai pubblicità quando noi andiamo da un telecom avrai un ritorno d'immagine no scusami io investo 4 miliardi di euro l'anno per comprare spazi pubblicitari e se ne liscio uno sparisco dalla faccia della terra perché Vodafone ne farà uno più di me dico che senso ha per me investire in pubblicità con te cioè lo sto facendo da un'altra parte ecco noi ci dovremmo domandare questo a un livello culturale più generale noi dovremmo ripattuire con le aziende io lo dico sempre bisognerebbe andare dalle aziende non per chiedere soldi in questo momento e dire no guarda io faccio uno sforzo non vengo qui a chiederti soldi anche se ne avrei un bisogno enorme voglio che ci sediamo a tavolino e pattuiamo di nuovo perché vale la pena investire in cultura sentendo le tue ragioni e le mie perché o si ristabilisce questo patto in un mondo in una comunità che la cultura cambia perché noi spesso pensiamo che dall'altra parte c'è o il buon filantropo o il bastardo allora il bastardo c'è il ritorno di pubblicità il buon filantropo perché è buono ci sono altri possibili interlocutori d'azienda che non rientrano in queste due grandi tipologie forse sì allora li dovremmo conoscere quindi qual è il senso per i nostri interlocutori in generale dell'opinione pubblica qual è il senso per voi nel chiedere soldi è il senso dell'assessore comunale di Torino alla cultura qual è per i vostri interlocutori quelli ai quali state proprio andando mi dovrei domandare vado da Massimo a chiedere gli soldi qual è il senso per Massimo di dare soldi e sotto c'è questo grande tema è giusto chiedere soldi ai cittadini e alle aziende perché sì perché no non diamo la prima questione scontata io l'altro giorno sono andato mi dispiace perché veramente aspettavo un'altra cosa sono andato a un incontro organizzato da una biblioteca in cui è venuto il neo assessore alla cultura della regione Lazio che è una personalità di livello è lì di era vera non ho problemi a dire nomi anche perché glielo ho detto direttamente a lei e io faccio un discorso dicendo l'importanza di ragionare su il ruolo del volontariato per la cultura non l'avessi mai detto non l'avessi mai detto perché è riuscito fuori uno sbotto di cultura vetero statalista comunista che veramente è fuori dalla grazia di Dio avete capito più o meno quali sono le mie idee quindi non è che proprio lo sto dicendo essendo di destra va bene della serie primo si alza un bibliotecario rappresentante di base dei sindacati dei bibliotecari che dice ho sentito parlare di volontariato nella cultura è una vergogna quando non ci pagano gli stipendi vorreste sostituirci o dei volontari ma chi ti ha detto questo quindi subito arzato tre quarti di difesa sindacalista e di seguito questo non me l'aspettavo l'assessore Lidia Rivera in effetti quando ho sentito la parola volontariato culturale ho detto no ma questo assolutamente no la cultura va pagata con lo Stato i cittadini devono solo fruirla io dico ma da quale film siete usciti fuori dico perché vi sto dicendo andiamo a fare un appello ai cittadini badate non possiamo più pagare i dipendenti venite a sostituirli e fate voi il prestito dei libri che manco lo sapete fare io ti sto dicendo che le biblioteche sono assaltate da persone che dentro la biblioteca vogliono fare i corsi vogliono condividere addirittura siccome me le so studiate sono andato giù pesante c'è una biblioteca qui vicino a Lanuvio che è un paese dei castelli romani in cui le mamme si vedono in biblioteca per organizzare meglio l'asilo perché non ci sono strutture dove lasciare il figlio quando devo andare a fare la spesa o quando devo andare a lavorare e lo trovo solo nella biblioteca dove però c'ho i libri e c'ho le persone che sanno far leggere i libri a bambini ma questo lo faccio fare al dipendente della biblioteca allora Lidia Ravera mi dice perché gli avevo nominato i gruppi di lettura siamo pieni di gruppi di lettura che se fanno con gli stipendiati gruppi di lettura che ha una passione sono stato al Sonore del Libro di Torino e mi hanno invitato a presentare il mio ultimo libro al gruppo di lettura una cosa splendida a 250 persone e dico ecco assessore ma quello che te lo fa il dipendente comunale ma mica perché è scemo il dipendente comunale ma perché è la voglia dei cittadini di partecipare dico allora se c'è sto sacrosanto bellissimo fenomeno ma perché non lo mettiamo a frutto restituendo le biblioteche al popolo con tutto il personale qualificato che serve per carità per l'amor di Dio ecco quindi che la questione è ancora viva non è giusto chiedere soldi per la cultura c'è una parte del nostro paese che ancora frena su questo e qualcuno lo potrebbe vedere come il sindacalista come una difesa dei diritti o una difesa dei principi dello Stato che dà tutto io lo vedo in un altro modo con la scarsa volontà di far fare ingresso ai cittadini nella gestione del bene pubblico io la vedo così perché vengo da una storia di tutela dei diritti dei cittadini io ho avuto la fortuna di fondare insieme ad altre persone il Tribunale per i diritti del malato e quando sento queste cose mi indigno perché io non volevo esautorare lo Stato i doveri io volevo riconquistare il potere sul controllo dei diritti alla salute ed è per quello che ho fatto fundraising è per quello che ho fatto volontariato non perché mandavate fare la signora bene che dice io faccio volontariato in biblioteca tu scrivi troppi libri e vivi poco la realtà su questo noi dobbiamo fare battaglie culturali perché adesso è ripreso il tema il dibattito sul volontariato culturale si sono alzati già gli scudi non è giusto non è giusto non è giusto guardate così non andiamo da nessuna parte stiamo dicendo stiamo mandando un messaggio ai cittadini non partecipate a me sembra una follia ma se io andassi ti do no 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 ma per carità ma per ma lo do lo do per scontato ma se io dico volontariato culturale infatti io mi sono fatto una ragione gli devo cambiare nome se io parlo del volontariato culturale perché a te interlocutore la prima cosa che ti scatta è questa ma no è un caso che mi serve per far capire che c'è un'area problematica non la voglio fare neanche tanto lunga perché ti scatta quella interpretazione perché invece non ti viene naturale interpretare che c'è della gente che vuole partecipare come a vedere le partite di calcio invece a vivere la cultura perché non ti viene in mente questo e quando viene proposto come una delle soluzioni per i problemi ma chi è che l'ha proposto come questo perché l'impressione è che più che qualcuno che l'abbia proposto è un'interpretazione che viene data la cosa io non ho mai visto nessuno che si è proposto di dire voglio venire a fare volontariato in modo che così potete tappare i buchi che avete nel personale non c'è nessun cittadino che mi ha mai detto questo io voglio venire in biblioteca perché voglio leggere insieme a cittadini voglio leggere voglio avere socialità e voglio che la cultura sia importante per noi questo è quello che mi dice un volontario mia sorella fa il volontario in biblioteca e ci va in biblioteca perché gli piace da matti leggere ha una certa età vuole mantenere relazioni amicali e vuole fare qualcosa di bello per il suo paese che è Spinea vicino a Venezia punto e ha fatto la bibliotecaria non sta pensando di andare a dire adesso che sto in pensione vado a dare la mano alla biblioteca non l'avrebbe fatto te lo giuro quindi secondo me che poi ci sia gente che magari pensa questo ok mi sembra più un problema di interpretazione vetero statalista piuttosto che un problema di realtà perché anzi io con le biblioteche sperimento che tutte le volte che la comunità locale che noi le biblioteche tendono a percepire con un approccio statalista come fruitori di un servizio che va bene per l'amor di Dio gli apriamo le porte dicendo in biblioteca si può fare questo vieni facciamolo insieme c'hanno la fila perché tu dici coincaglie sai c'hai provato non vi è nessuno dice coincaglie c'è un mondo da cambiare no c'è la fila gli devi più accalci dice no un attimo mettetevi a posto in fila voglio fare il corso di informatica noi ragazzi non sappiamo dove suonare dai qui si può fare musica musica elettronica perché c'è uno che è esperto di computer ti spiega come funzionano i nuovi programmi un giovane italiano faccio il caso delle biblioteche guarda io sono convinto sono convinto adesso ci metto una posta qui di scommessa pronto a perdere che se i teatri incominciano ad aprirsi in questa logica diventano pieni poi se me sbaglio pago la posta ma io sono convinto di questo le biblioteche è chiaro che essendo un servizio pubblico ed essendo una struttura che per definizione aperta al pubblico ha delle condizioni idealizzanti per fare tutto ciò questo lo capisco ecco perché sto spingendo il piede sull'acceleratore anche perché ultimo paradosso e poi chiudiamo c'è un giovane italiano torinese che si chiama Dogliani che 15 anni fa si è inventato una cosa che si chiama Idea Store dice le biblioteche devono avere questo è il suo ragionamento è peraltro un ragionamento di cui si discute a livello internazionale da anni la biblioteca non è più il posto in cui si presta il libro non è più il posto in cui accedo a documenti anche perché con internet siamo sconfitti in verità la biblioteca è un posto della cultura dove si può creare condividere sviluppare e vivere la cultura questa è la sua vocazione che peraltro è sempre stato così esatto allora dice perché non li facciamo diventare dei negozi delle idee adesso il nome è chiaro come tutti i nomi è una sintesi ma come un negozio della conoscenza anzi un grande magazzino della conoscenza uno store fico lo propone in Italia dogliani abbia pazienza le biblioteche sono un'istituzione vabbè me ne va in Inghilterra in Inghilterra in tre mesi finanziano questo progetto in due anni rivoluzionano il sistema delle biblioteche nei grandi centri nei piccoli è un po' diverso nei grandi centri un successo enorme anche perché lo hanno fatto con un processo partecipato di progettazione analisi dei bisogni le proposte in maniera strutturata vanno una bomba nel senso che i finanziatori ci mettono i soldi perché è valore aggiunto perché è innovazione perché è un bene della comunità se no altrimenti devono chiedere i soldi ecco allora non andiamo a chiedere il volontariato però si va dall'azienda a dire noi non sappiamo più come pagare i dipendenti della biblioteca ci aiuti noi stiamo creando un'offerta nuova per un paese che ha un nuovo bisogno di cultura io come azienda godo do i soldi a te non a quei vecchi babbioni cretini delle biblioteche ritorna in Italia perché la cosa rimbalza da noi e comincia a parlare di Fandresi in pelle biblioteche e una volta l'ho sentito parlare lui ha coniato questa bella frase per dire a che stato eravamo intorno al 2000 fan che lui veniva diceva Fandresi in pelle biblioteche fan che capito questo spiega perché noi siamo leader nella cultura abbiamo le idee e infatti ci fregano gli altri paesi top management dell'Uvra primi quattro italiani direttore del principale museo in Canada italiano è veramente fuori grazie a Dio guardate io credo che noi ci dobbiamo credere di più e ristabilire un patto con questo mondo fuori poi chiamiamolo volontariato io ho deciso non lo chiamo più volontariato lo chiamo militanza culturale se parlo con qualcuno di sinistra lo chiamo militanza culturale vi faccio pure il pugnetto e l'occhiolino ci siamo intesi al centro del fundraising scusatemi ma il vostro livello di attenzione è molto alto non vorrei invece perdere diciamo invece gli orari allora vado un pochino più rapido vi guardo meno degli occhi così faccio meno finta che il discorso sia interessante allora al centro del fundraising c'è comunque questo concetto importante che dobbiamo chiarire c'è il concetto di scambio cioè il fundraising per quanto è una liberalità se è una donazione è una liberalità la liberalità lo dice proprio diciamo la formulazione giuridica è libera da qualunque vincolo tu mi dai soldi io non ti do niente in cambio sennò non sarebbe una liberalità è libera da vincoli ok però in verità lo scambio c'è uguale botteghino no io dare te soldi tu dare me diritto a vedere lo spettacolo quindi è uno scambio a limite commerciale il fundraising prevede quindi che tra noi e un donatore un finanziatore un'azienda uno sponsor una fondazione ci sia sempre uno scambio tra costi e benefici questo è uno dei pochi principi del marketing che noi usiamo anche nel fundraising il marketing non è la disciplina per vendere meglio il marketing è la disciplina per promuovere gestire e sviluppare gli scambi nel settore commerciale serve a vendere nel settore non commerciale serve a scambiare altro infatti esiste il marketing sociale e quant'altro e allora in questa logica prima di andare a chiedere soldi noi dobbiamo domandarci che cosa offriamo ai cittadini in questa logica di scambio cosa offriamo alle aziende cosa offriamo alle fondazioni sapendo che lo scambio è di valori materiali in alcuni casi nel caso del marketing commerciale è soprattutto valori materiali io dare te un euro tu dare me saponetta che lava se tu non dai me saponetta pezzo materiale io non dare te un euro e scambi immateriali che sono quelli più propri invece del settore non profit e nella cultura sono il 90% io scambio sensazioni piacere cultura e immaterialità è il nostro mondo peraltro noi siamo nel mondo dei valori immateriali anche chi produce pezzi meccanica lo sa che siamo nel mondo immateriali io non comprerò mai la mercedes perché è una bella accozzaglia di solo perché è una bella accozzaglia di ferro ma perché è un simbolo di status è l'odore della pelle dei sedili lo sanno benissimo le aziende ma ti pare che tutti comprano il SUV per andare in cima alla montagna eh no il SUV è per conquistare un valore immateriale sto più in alto di te sono più forte posso andare dappertutto non ci andrò posso andare dappertutto non c'è niente di più immateriale di questo non si venderebbe un SUV se pensassero solo allo scambio materiale no? vi appare chiaro questo? è per quello che nelle pubblicità ci fanno certe pippe che certe volte sono proprio insopportabili arriva una macchina e c'è dietro la filosofia morale perché noi abbiamo bisogno di scambi immateriali loro lo sanno e lo usano e quindi è chiaro che dobbiamo pensare quale valore noi portiamo a il mio interlocutore che evidentemente mi darà dei soldi allora noi che facciamo cultura chi più chi meno viviamo in un sistema di scambi anche molto differenti tra loro abbiamo gli scambi cosiddetti sinallagmatici brutta parola ma si chiamano proprio così cioè scambio di valori equivalenti partecipare a uno spettacolo a un evento è quello che dicevo prima pago il biglietto mi dà il diritto finito lo spettacolo finito lo diritto ok? ricevere una pubblicazione comprare un libro lo scambio sinallagmatico è quello principale negli scambi commerciali evidente poi capisco la terminologia è un po' claudicante ve ne chiedo scusa però cerchiamo di intenderci abbiamo degli scambi che hanno comunque un valore commerciale per quanto non sono proprio sinallagmatici la sponsorizzazione è una di queste perché se prendiamo la sponsorizzazione in senso stretto cioè tu mi dai dei soldi io ho un cambio metto lo striscione con il tuo logo quindi mille persone ti vedono puoi portare il tuo materiale e distribuirlo ai partecipanti all'evento io sto facendo uno scambio commerciale tant'è vero che l'azienda vuole un contratto e su questo contratto ci si paga l'IVA come tutti gli scambi commerciali la vera sponsorizzazione è questa poi se vedano i soldi sotto banco è un altro discorso ma da un punto di vista giuridico e fiscale la sponsorizzazione prevede questo poi è un contratto atipico può essere addirittura verbale ma è un contratto tant'è che se tu l'evento non lo fai io i soldi col cavolo che tu vado così come è vero che se vi è il diluvio universale durante l'evento tu i soldi me li dai uguali perché non è che ok una copromozione con l'azienda Vodafone vieni qua durante l'evento vieni con il banchetto e con il tuo banchetto vendi contratti di telefonia qui siamo nello scambio commerciale vado al teatro c'è la pausa vado al bar del teatro prendo un caffè è uno scambio commerciale tant'è che quel prezzo del caffè starà tra quello del bar e al massimo quello dell'hotel se mi chiedessero 10 euro non lo avrei mai quello scambio no? ma forse anche se mi chiedessero 50 centesimi perché è normale il bar lo apri una volta a settimana ti costa di più il caffè lo pagherò 2 euro è uno scambio che è governato da principi commerciali anche se poi il bar del teatro quei soldi li va a mettere in cassa per il teatro però è governato da principi che sono tipici dello scambio commerciale e poi abbiamo gli scambi immateriali sociali politici il contributo di una fondazione se è un'istituzione che fa cultura locale ti dà un contributo e che cosa sto facendo è uno scambio sociale potremmo dire la fondazione che si impegna per la comunità le donazioni il sostegno che a diverso titolo cittadini o anche aziende ci possono dare la membership di un club appartenenza uno che aderisce al diner club o che altro so io l'unico scambio materiale che ha è quel distintivo che però è fondamentale perché dietro quel distintivo c'è uno scambio in materiale enorme io so nel jet society del comune e se vado a raduno incontro tutte le persone più importanti relazioni status che pure ci sta allora attenzione che noi tendenzialmente non stiamo negli scambi sinallagmatici più di tanto stiamo negli scambi commerciali perché il botteghino è sicuramente uno scambio che è governato da leggi più o meno commerciali e stiamo soprattutto negli scambi sociali politici immateriali e ci dobbiamo fare questa domanda che è un po' fatto all'inizio proprio nell'introduzione un donatore individuale o un'azienda hanno già contribuito alla cultura con le tasse attenzione ricordiamocelo quando gli assessori dicono adesso care aziende tocca a voi sostenere la cultura l'azienda se dice la verità dice primo me devi dire che hai fatto con le mie tasse per la cultura e poi vediamo se te ne do altri questo è un vero ragionamento che farebbe un imprenditore almeno che l'imprenditore non ha un altro interesse legittimo avere un buon rapporto con l'assessore e fare vedere che lui è disponibile a collaborare ma da un punto di vista aziendalistico dovrebbe dire io ho già dato i soldi per quello tu mi mandi un rendiconto gentilmente io se fossi un imprenditore direi così guardate qui in Puglia una delle prime province che ha iniziato a chiedere soldi per la scuola è stata la provincia di Molfetta come si chiama quella là il BAC il BAC grazie BAC bando come provincia perché una serie di scuole voi sapete dipendono dalla provincia come amministrazione gli istituti tecnici eccetera eccetera chiediamo la sponsorizzazione dei banchi vabbè io mi sto domandando a parte il modo con il quale fatto bando pubblicato all'albo come se le sponsorizzazioni funzionassero per legge devi andare dall'azienda a precarlo in ginocchio ma che è sto modo faccio un bando chi vuole sponsorizzare pernacchia vabbè questa è tecnica ma la sostanza io faccio l'uomo d'azienda adesso voglio fare la piccola media azienda della provincia BAC mi chiedono di sponsorizzare un banco che gli devo dare 500-1000 euro ok è un investimento in pubblicità ha detto sponsorizzare il banco che c'ho in cambio allora su un banco mettono il mio marchio attenzione questo marchio quindi viene visto da chi? da uno forse i vicini del banco quant'è l'arco di vita di un banco prima che questo marchio voli via? se arriva a 5 anni è grasso che cosa? quindi 10 persone per 5 anni 50 esposizioni del mio marchio mazza 1000 euro 50 esposizioni del mio marchio già mi comincia a costare un po' tanto però faccio un altro ragionamento perché magari è qualitativo certo perché questo lo vede tutti i giorni quindi so 50 che socializzano con il mio marchio e dico che ci faranno col mio marchio e mi immagino il bambino ragazzo che con un tagliabalse incomincia a martoriare il mio marchio e siccome sta maledicendo la scuola maledice tutto quello che è dentro la scuola dal professore al bidello ai cessi che puzzano e fanno schifo fino a quel cretino dell'azienda che ha messo il marchio sul mio banco se faccio l'uomo d'azienda devo dire mi stai facendo una proposta che è fuori dalla grazia di Dio poi siccome è l'assessore qualche uno dei soldi gliel'avrà dati e anche qui abbiamo messo la scuola nella carità ma aiuti a comprare i banchi ammazza che soddisfazione siamo alle soglie dell'era no alle soglie siamo dentro finalmente all'era moderna internet eccetera e stiamo a comprare la carta igienica per le scuole mazzo per dare altri soldi deve ricevere e percepire un valore aggiunto l'ho detto all'inizio questo è un tema fondamentale non diamo per scontato che la cultura sia un valore non c'è dubbio che io dia dei soldi per un progetto specifico deve essere legato al fatto che questo progetto mi produce un valore aggiunto che io in qualche modo devo percepire cioè me ne devo rendere conto qual è il valore aggiunto che noi mettiamo nel mercato del fundraising ma guardate io vi inviterei a fare questo ragionamento come se voi foste un'azienda cioè io sto mettendo sul mercato un sapone che lava con meno quantità di grassi e profuma meglio e dura un mese di più dovete ragionare in questi termini per cose che a noi interessano evidente io lo scelgo solo come paragone non è che dovete trattare il vostro come un prodotto da vendere ma il tipo di ragionamento deve essere quello cioè il mio cliente il mio interlocutore il mio donatore la mia azienda deve percepire in quello che faccio un valore aggiunto io devo essere in grado di dargli un nome un cognome di dimostrarlo poi è chiaro che lui occasionalmente mi può fare la carità a dare dei soldi però lo farà oggi poi finirà io ho bisogno di trovare gente che accompagna il mio sviluppo ho bisogno di gente che tifi per me questo è il donatore principale poi raccatto tutto non c'è problema ma il vero problema è nel trovare quella base di donatori e di sostenitori che mi accompagna nel tempo ecco perché è importante questo ragionamento e allora noi il valore tendenzialmente lo produciamo all'incrocio di diverse aree tematiche valoriali quella della cultura senza dubbio ma quasi mai ho visto progetti soprattutto non profiti che siano cultura punto spesso il valore aggiunto è legato dall'intreccio tra la cultura il fatto culturale in sé uno spettacolo il teatro e altri aspetti già oggi Tina accogliendomi Tina vero ti chiami o mi ricordo male Tina Titti ti chiedo scusa ho una memoria che è una cosa proprio terrificante già Titti oggi accogliendomi in un posto che poteva essere semplicemente un museo espositivo mi ha detto due tre cose che riguardavano il valore aggiunto quello che c'era intorno è chiaro che la sostanza è un discorso sul cibo ma intorno c'è di più io ho già percepito il valore della socialità ho già percepito il valore di un'esperienza no mi sto pregustando il fatto che qui ci sia anche gusto capisco che dietro c'è un discorso di come dire mantenimento della nostra storia identitaria che è un valore più politico e sociale no che addirittura c'è un'attrattiva per esempio turistica guardate questo è un discorso che in un minuto ho fatto con lei ho percepito che quindi c'è un legame con lo sviluppo locale infatti la prima cosa che gli ho detto è che non è mai possibile che c'è stata la segnaletica per farci arriva qua e gli ho detto fossi un tedesco lo sapessi starei già qua perché io mangio vriustele e crauti crauti vriustele e patate birra se vengo in Italia abbiate pazienza c'è un museo del gusto dove c'è una persona splendida che mi fa appassionare le cose e mi spiega come esce fuori l'olio d'oliva ma io ci vengo una settimana qua ma per favore mi mettete un cartello per arrivarci c'è capitale sociale cognitivo molte aziende sono interessate non tutte una porzione di aziende è interessata a investire in cultura perché la cultura contribuisce a far crescere il capitale cognitivo e sociale di una comunità senza capitale sociale e cognitivo conoscenze relazioni non si sviluppa niente ma anche l'azienda si sviluppa guardate questo gli imprenditori italiani del primo dopoguerra l'avevano capito altro che filantropia farsi belli Olivetti faceva un altro discorso o investo nello sviluppo della comunità Olivetti se ne va a casa poi io me la sono studiata anche Borsalino diceva questo Borsalino era una piccola fabbrica artigianale del Piemonte investiva tanto quanto investiva sulla qualità dei cappelli sugli asili la scuola per i bambini e per i figli di quelli che lavoravano i diritti delle donne e non erano comunisti Olivetti era socialista vabbè si dice però era socialista a modo suo Borsalino ma manco un po' era un cattolicone cioè guardate che questo è importante noi le aziende non crediamo che siano stupide alcune hanno proprio idea questo quindi sviluppo locale politiche sociali integrazione degli immigrati quanto teatro per esempio si fa con un'attenzione a determinate non è che siete obbligati a farlo ma in tanta nostra offerta culturale c'è l'attenzione a soggetti svantaggiati oppure a processi sociali che vanno migliorati c'è molto teatro terapeutico per dire no? ho fatto il caso delle biblioteche ma che è solo cultura ve l'ho detto ho fatto un'indagine i giovani nella fascia 20-30 anni che vanno all'università ai castelli romani scava scava uno dei motivi che li attrae andare in biblioteca a parte il fatto che è un buon posto per studiare perché a casa non si studia bene signori è perché si rimorchia e si può vivere senza rimorchiare adesso parliamoci chiaramente capisco la parola è un po' brutale ma insomma il concetto è sacrosanto perché? perché lì dentro ci sono persone che condividono evidentemente una serie di interessi hanno una sfida comune devono sfangarla all'università so dei castelli romani perché non è che me la posso sempre trovare di Roma perché vivrò ai castelli romani all'università si studia male e tutto il resto io devo dire che il valore aggiunto per loro è socialità relazioni una biblioteca è molto svelta dopo questo ragionamento mi ha fatto apriamo una stanza al cova ho detto abbi pazienza abbi pazienza però avevo visto un sottile segnale di furbizia avida e infatti ho detto tu sei veramente una fundraiser perché ho capito che l'hai detto per scherzo e quella è una macchina da guerra se lei dopo questo corso di formazione che abbiamo fatto si è scoperto dicevo io volevo fare nella vita il fundraiser sai che cosa fa questa qui così alleggeriamo un po' la pietanza e questa qui fa così che quando uno torna e ha il senso di colpa perché ha portato in ritardo il libro c'è una sanzione più che una sanzione è vietato però so di braccia di manica larga non è che stanno lì tanto a fare però lei sfrutta questo senso di colpa e automaticamente proprio l'ha già capito automaticamente sono 5 euro e quell'altro non si fa né qua né là e lei ha un bussolotto qui di donazioni inconsapevoli basate sul fatto che quello deve riscattare il senso di colpa che si è presentato tardi vai a leggere il regolamento non ci sta scritta la sanzione pecuniaria fantastica un genio proprio quindi il fundraising non è la risposta alla mancanza di fondi pubblici non è una sovrattassa se passa così non ce li darà nessuno i soldi è sostenere la produzione di un beneficio per noi per gli altri chiaramente e produrre un valore sociale aggiunto per la comunità che vive intorno agli enti culturali è da questo punto di vista un grande strumento di creazione di welfare di comunità quello di cui oggi parliamo il nostro grande problema è come manteniamo il welfare e come lo facciamo meglio e tendiamo a chiamarlo welfare di comunità non lo chiamiamo più welfare state non è la privatizzazione o la commercializzazione di un servizio perché molti grandi musei eccetera eccetera stanno prendendo un po' questa strada cioè non regge più lo schema culturale sostenuto dallo Stato transitiamolo nel mondo privato ecco perché gli viene in mente solo la sponsorizzazione perché pensano creiamo occasioni di business va bene tutto ma non è quello che noi dobbiamo fare conseguenze per gli enti culturali come impatta questo scenario che adesso vi ho disegnato in maniera anche un po' teatrale beh ci sono un po' di sfide che riguardano noi ancora prima che chiediamo i soldi primo la nostra missione è la nostra identità sociale gli enti culturali devono avere una forte missione e identità sociale e la devono portare all'esterno perché questo è il primo legame se io sono solo un teatro che eroga spettacoli non mi si percepisce il valore aggiunto vengo percepito come un erogatore di servizi il che va bene se mi potessi reggere solo col botteghino andrebbe benissimo ma non esiste ente sulla faccia della terra che vive col botteghino per più di un terzo del suo fabbisogno non esiste ci vuole quindi una missione sociale per fare fandresi non basta erogare servizi questa missione sociale deve essere condivisa e quindi va promossa affermata discussa dialogata con il nostro popolo più viene assunta riconosciuta da una parte adesso mica tutto più noi avremo donatori non basta essere un'istituzione un ente ma bisogna essere un soggetto sociale anche formalmente gli enti pubblici adesso io penso agli enti culturali che hanno ancora una dipendenza pubblica hanno dei forti problemi nel fare fundraising perché non vengono resi credibili dice che sei sono una pubblica amministrazione no a te i soldi non ti do magari sono bravissimi ma ci hanno ragione sono stati abituati male a volte hanno proprio dei vincoli di legge le scuole non possono partecipare al 5 per 1000 le associazioni dei genitori per la scuola si strategia di sostenibilità l'ho detto nella definizione non potete avere solo un insieme di azioni tecniche episodiche quando vi mancano i soldi ma una strategia integrata di sostegno di tutte le attività guardando a tutti i mercati ripeto il fundraising è come il business plan per un'azienda il fundraising sta alla vostra associazione culturale come il business plan sta all'azienda che vende saponi non si può fare senza questo il progetto di sviluppo perché vedete la gente vuole produrre valore aggiunto fare di più sviluppare per raccogliere fondi quindi ci vuole un progetto che crei qualcosa di nuovo e anche concreto cioè che abbia un impatto visibile sulla realtà non concreto solo nel senso di materiale bisogna pensare e lavorare per progetti che siano verificabili che producano impatti che dimostrano di aver utilizzato bene i soldi per un fine non è solo la buona amministrazione che è importante ma è dato 100 come lo speso guardate che i cittadini se io gli chiedo le opinioni dicono ah sì però chissà come li spendono quindi dicono che sono interessati a quello se gli mando il bilancio non lo legge nessuno e nonostante il bilancio glielo dovrei mandare in verità quello che gli preoccupa se uno scava in fondo è esattamente il risultato che avete avuto con i soldi se io dimostro che con quei soldi che hai mai dato ho ottenuto un risultato che abbiamo pattuito insieme che tu abbia speso 150 al ristorante non me ne frega niente la cosa più importante è quella certo se tu non comunichi il valore aggiunto o raggiunto e fai solamente il discorso dei conti ti vengono a dire ma spendi 100 al ristorante non potevi mangiare i panini ah ecco come uso i miei soldi è certo è giusto non c'è altra sostanza sulla quale discutere mentre invece era importante andare al ristorante da 100 perché? perché era venuta una personalità e se la ospiti male ma non lo capisco se il termine di paragone è il valore prodotto se faccio solo un discorso meramente amministrativo a parte che a volte per legge in bilancio facevo una laurea io non so capace quindi ci capisco poco se sei stato onesto o meno e poi parliamoci chiaro il bilancio di Parma la terra certificato ma se questo discorso io dico ah ma io come fanno molte organizzazioni non profili il mio bilancio è certificato e vabbè certificato sono tutti certificati i bilanci paghi il commercialista ci mette il bollo che problema c'è avanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti